Ministri, abbiamo un ex ministro e un consigliere della FAO che sono qui oggi che si vogliono interfacciare con i giovani e che vogliono dimostrare che come dicevo prima c'è sicuramente un interesse politico, una volontà politica a far sì che i giovani partecipano alla trasformazione dei sistemi agroalimentari. Mi ricordo ancora quando lavoravamo sui Sustainable Development Goals e guardavamo a quale poteva essere uno dei sistemi o dei modi per far sì che le economie e le società fossero più sostenibili e forse è proprio nel sistema delle economie circolari che troviamo una risposta e quindi se questo è vero, se questo fosse vero, beh è sicuramente all'interno di questi sistemi che dobbiamo trovare lo spazio giusto da dare ai nostri giovani. Parleremo oggi di innovazione, abbiamo diversi imprenditori che sono presenti oggi e parleremo anche di soluzioni sostenibili e vedremo come proprio i giovani sono forse tra coloro i quali portano più innovazione e hanno sicuramente la sostenibilità a cuore. Io ho avuto modo negli ultimi mesi di interfacciarmi con diversi paesi nella preparazione del World Food Forum e sicuramente uno dei paesi che è all'avanguardia e sicuramente più avanzato per quanto riguarda le economie circolari è sicuramente l'Italia. Ma l'Italia è anche uno dei paesi che guarda alla partecipazione dei giovani sia politica, economica e dal punto di vista delle associazioni dei giovani più avanzate in Europa e forse al mondo. Io ho avuto modo di interfacciarmi con il team della Ministra Dadone con la Ministra Dadone per quanto riguarda l'HLPF, l'High Level Political Forum di New York e anche in preparazione del World Food Forum e devo dire che ho trovato una Ministra assolutamente dedicata e assolutamente pronta a far sì che i giovani siano come giusto che sia a capo di questa trasformazione sostenibile. Per me quindi è un grandissimo onore Ministra Dadone, darle la parola e ringraziarla per averci ospitato oggi. Grazie, sono io che vi ringrazio della collaborazione, saluto tutti i distinti ospiti, i partecipanti, il collega, in particolare il collega Stefano Patuanelli, il direttore della FAO Martina, saluto la Presidente Pisani che ci ha dato una grande mano in termini di consultazione rivolte ai giovani e in particolare il Presidente Petrini che ha accolto il nostro invito a questo piccolo saluto istituzionale, primo tavolo di confronto con i ragazzi. Sono lieta che siamo riusciti ad organizzare questo importante evento che pone poi al centro due questioni, quello dello sviluppo sostenibile da un lato e dall'altro quello importante dell'inclusione dei giovani nei processi decisionali. Un'occasione di confronto e di riflessione e di stimolo con voi ragazzi era dal nostro punto di vista come Ministero delle Politiche Giovanili fondamentali. Sappiamo che il Covid ha cambiato molti equilibri e ha accelerato anche diversi processi e rivedere proprio dopo un 2020, in parte anche un 2021 molto particolare i modelli di sviluppo, di consumo, di educazione alimentare, abbiamo pensato potesse essere un'occasione imperdibile. Ma farlo discutendone insieme a voi fosse necessariamente qualche cosa da riuscire a fare. Io ricordo spesso il fatto che i movimenti dal basso che ho vissuto anche nei miei anni di vita hanno visto cambiare una visione rispetto al consumo del cibo, che ha portato i ragazzi della mia generazione a non vederlo solo più come un mezzo di sostentamento, ma proprio come un legame alla storia, alla cultura e anche un po' la vocazione del luogo di provenienza e della propria terra. E ho imparato proprio grazie a questi movimenti che sono nati dal basso e sono arrivati fin nei palazzi istituzionali e il fatto che le scelte quotidiane che ognuno di noi fa e compie possano avere degli effetti importanti in termini di grandi rivoluzioni culturali. Oggi possiamo discutere, abbiamo la possibilità di discutere insieme a voi come riuscire a conciliare la produzione, il processo, la distribuzione e il consumo del cibo. E farlo senza, come dicevo prima, coinvolgere voi ragazzi sarebbe stata un'occasione persa. Invece abbiamo voluto proprio alimentare quella che l'iniziativa del World Food Forum di lanciare, l'abbiamo voluta sostenere, una piattaforma globale per discutere insieme a tutti i ragazzi i processi agroalimentari sostenibili come un ottimo punto di partenza. Noi abbiamo voluto sostenere nel nostro piccolo con una consultazione che abbiamo fatto insieme all'Agenzia Nazionale dei Giovani e alla Consulta Nazionale dei Giovani e che ha visto circa 5.000 risposte in appena una settimana e mezza di consultazioni. Tra le proposte che ci sono arrivate proprio dai ragazzi sono state delle richieste in termini di supporto per esempio alle imprese che applicano degli standard molto elevati in termini di protezione ambientale e sociale. L'importanza è tutelare sia le specie e le tradizioni locali unendole a dei metodi di produzione che siano all'avanguardia in termini tecnologici e dall'altro lato l'incentivazione all'utilizzo dei prodotti locali e stagionali. Io credo che anche questo tipo di sondaggio ci abbia aiutato un po' a capire come calibrare questo tipo di side event che oggi svolgiamo è il motivo per cui abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione in tre piccoli tavoli che in realtà non sono tanto piccoli ma sono decisamente importanti in termini di argomenti. Il primo che riguarda la cultura dell'alimentazione di qualità e il secondo le soluzioni innovative rispetto anche al riuso degli scarti agroalimentari e il terzo le competenze green. Noi su questo anche come Ministero ci stiamo muovendo all'interno di quelli che sono i programmi che abbiamo come supporto in particolare allo sviluppo delle competenze di voi ragazzi ma pensiamo che questo ambito di discussione possa rappresentare un piccolo importante passaggio e credo che non solo la classe dirigente di questo paese ma tutto il mondo degli adulti, dei grandi sarà valutato e poi giudicato dalla storia per il paese che riusciremo a lasciarvi e con questo augurio passo la parola al mio collega Stefano. Grazie. Grazie, grazie infinite Ministro Dadone e io darò subito la parola al collega Stefano Patuanelli Ministro Stefano Patuanelli e volevo fare un piccolo appunto prima di dare la parola io ho con piacere visto che già nel suo primo incarico come Ministro dello Sviluppo Economico ha guardato le piccole e medie imprese come sicuramente un modello importante di sviluppo e favorendo anche il fondo di garanzia alle PMI e sicuramente quello ha aiutato molto e aiuterà molto i giovani nella formazione di piccole e medie imprese e ha continuato questo percorso anche nell'incarico attuale come Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Ministro Patuanelli, io Patuanelli le darei la parola e benvenuto a questo posto. Grazie, grazie, saluto a tutte le persone collegate, ringrazio ovviamente la Ministra Dadone per avermi invitato in questo panel molto interessante, saluto e ringrazio per il supporto, anzi per il fatto che mi sopporta e mi supporta molto spesso il Vice Direttore Maurizio Martina, ex Ministro che con la sua competenza mi riempie di consigli preziosi e ovviamente saluto la Presidente Pisani qui vicino a me. Noi dobbiamo fare i conti con la struttura produttiva del nostro Paese che è fatta di piccole e medie imprese quindi riprendendo l'introduzione del mio intervento dico che è stato un obbligo da parte nostra dal Ministero dello Sviluppo Economico e lo è oggi dal Ministero dell'Agricoltura quello di sostenere la struttura produttiva del nostro Paese che è un limite per alcune cose ed è un grande valore peraltro soprattutto nel settore agroalimentare perché io credo che oggi il rischio che abbiamo è quello dell'omologazione del cibo della produzione a commodity dei beni primari che sarebbe un elemento esplosivo per la nostra struttura produttiva che è fatta invece di grandi distintività, di eccellenze, di piccole produzioni locali che legano peraltro il cibo al territorio, la cultura, le tradizioni del nostro Paese e quindi il sostegno alla piccola e media impresa agricola in questo caso è il sostegno alla nostra tradizione di produzione di cibo che non può non giocare la sfida della sostenibilità non perdendo la peculiarità della sua dimensione e della sua distintività torno però al ruolo dei giovani e al tema di questo momento di riflessione comune io credo che innanzitutto è dello sforzo che sta facendo la ministra Dadone i giovani non devono essere ascoltati, devono poter partecipare al processo decisionale perché l'ascolto non è sufficiente, è ascoltare e dar loro la possibilità di esprimere il loro punto di vista in quel processo che poi determina le politiche che un governo mette in campo perché il rischio che noi facciamo sul tema della sostenibilità è quello di parlarci sempre tra di noi, di non avere un punto di vista diverso e poi di non mettere in campo politiche coerenti con l'obiettivo il punto di vista dei giovani ha invece questo elemento costante cioè la coerenza di ciò che si dice e la proposta che viene fatta e questo chi fa politica e chi ha ruoli di governo deve tra virgolette sfruttarlo non è un termine in negativo in questo caso dobbiamo essere in grado di sfruttare i giovani per mettere in campo le politiche corrette e coerenti con gli obiettivi in tema di sostenibilità io credo che dobbiamo lavorare con i giovani perché i giovani di oggi sono già oggi consumatori ma saranno ancora più consumatori di domani e allora l'educazione è il primo aspetto su cui dobbiamo concentrarci il nostro ministero sta facendo delle politiche di educazione assieme anche al ministero dell'istruzione con programmi dedicati alla scuola dove purtroppo per fortuna molto spesso ancora oggi gran parte della popolazione fa l'unico pasto completo della giornata l'educazione al cibo quindi nasce dalla scuola materna nasce con i ragazzini più piccoli con i nostri bambini ma io dico sempre che l'educazione non si fa a parole io ho tre figli io posso dir loro come comportarsi ma se io mi comporto in modo diverso se il mio atteggiamento è diverso non otterrò mai un risultato educativo soddisfacente perché l'esempio è l'unica cosa che conta e allora oggi cosa facciamo nelle scuole non facciamo soltanto programmi formativi ma lavoriamo con le mense per garantire cibo biologico per garantire cibo di prossimità chilometri zero abbiamo la campagna latte nelle scuole la campagna che stiamo portando avanti per educare alla dieta mediterranea stiamo facendo esempi dentro i sistemi educativi per coltivare e far crescere ragazzi che comprendano esattamente il valore del cibo rispetto alla salute e rispetto alla tutela dell'ambiente oggi il nostro compito principale è attrarre giovani in agricoltura purtroppo soltanto l'8% dei nostri imprenditori agricoli ha meno di 40 anni la media europea non è tanto lontana dal valore del nostro paese la media europea è dell'11% quindi è un problema generalizzato ma perché? perché il settore agricolo è un settore conservativo da un lato molto faticoso dall'altro ed è percepito come faticoso come si vince questa sfida? con l'innovazione io quello che vedo girando oggi che finalmente riusciamo a spostarci un po' di più sul territorio è che molti giovani si avvicinano all'agricoltura perché percepiscono il potere dell'innovazione dall'agricoltura di precisione e quindi dall'utilizzo di sistemi di sensoristica di monitoraggio, l'uso dei droni, i sistemi ad intelligenza artificiale per l'irrigazione collegata con le previsioni meteo che hanno un grado di precisione molto elevato la possibilità di utilizzare meno fitofarmici e antiparassitari chimici perché il sistema di sensoristica ti dice esattamente quali sono le piante che hanno avuto un attacco di parassita tutto questo affascina i giovani, affascina oggi chi si avvicina al mondo del lavoro che vede nell'agricoltura una possibilità ma l'innovazione consente anche il passaggio fondamentale verso una maggiore sostenibilità. Io qui vedo un grande rischio il rischio è della radicalizzazione di un dibattito che da una parte mette lo dicevamo recentemente anche con Maurizio che da una parte mette che mette in contrapposizione chi tutela l'ambiente con chi vuole conservare il mondo produttivo così com'è noi dobbiamo invece far percepire a tutti che la sostenibilità ed è un po' nelle tre parole scelte dal governo italiano per il G20 la sostenibilità è composta da tre grandi gambe la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale quindi le persone, la prosperità, quindi l'economia e la terza parola che è il pianeta, che è l'ambiente la tecnologia, le nuove tecnologie, l'innovazione ci possono portare a tenere assieme queste tre gambe perché significa aumentare la competitività delle aziende significa diminuire l'impatto ambientale quindi gli input che l'agricoltura riceve e dà all'ambiente e consente di generare nuove professionalità oggi chi fa agricoltura non deve soltanto sapere quali sono i cicli di semina del terreno ma deve sapere anche come funziona un drone o come si utilizza un computer o un software di gestione del proprio territorio e quindi teniamo assieme attraverso l'innovazione le tre gambe della sostenibilità il governo italiano sta cercando, ha cercato e cercherà attraverso le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza di stimolare gli investimenti in innovazione perché se guardiamo e di tutela dell'ambiente in cui viviamo perché se guardiamo le cinque progettualità direttamente gestite dal Ministero delle politiche agricole e alimentari forestali vediamo la meccanizzazione cioè 500 milioni per la sostituzione delle attrezzature delle aziende agricole con attrezzature che abbiano l'interconnessione che siano interoperabili e quindi con una struttura 4.0 di gestione agricola il tema dell'acqua che diventerà sempre di più un elemento cruciale in agricoltura noi captiamo l'11% dell'acqua piovana 880 milioni per la realizzazione di bacini irrigui che consentano a chi fa produzione agroalimentare agricola in particolare di utilizzare l'acqua piovana senza impattare sul processo di depurazione dell'acqua abbiamo un miliardo e duecento milioni per i contratti di filiera che servono a monitorare il passaggio del valore aggiunto nella filiera per aumentare la capacità di reddito degli agricoltori che a loro volta potranno aumentare e quindi rendere più socialmente sostenibile il lavoro agricolo garantendo contratti gestione del mondo del lavoro più sana e accettabile e quindi per superare il fenomeno del caporalato l'agri solare la sostituzione delle coperture con un miliardo e mezzo di dotazione delle coperture delle stalle dei magazzini e dei capannoni del settore primario con impianti fotovoltaici che ha un doppio forte significato il primo è quello di accompagnare il reddito degli agricoltori il secondo ovviamente quello di produrre energia da fonte rinnovabile la gestione della logistica 500 milioni per migliorare il modo in cui i prodotti agroalimentari si spostano nel nostro territorio anche da questo punto di vista un minore impatto sull'ambiente migliorando la filiera della logistica del sistema agroalimentare tutte progettualità che vanno in un'unica direzione parlavo della coerenza delle politiche ecco questi sono progettualità coerenti con gli obiettivi sostenere il reddito agricolo quindi la parte economica sostenere il lavoro e sostenere soprattutto il passaggio fondamentale della sostenibilità delle produzioni agroalimentari italiane che hanno come dicevo all'inizio la peculiarità di essere distintive ed eccellenti ed è soltanto attraverso un miglioramento della produttività delle aziende che noi riusciremo a garantire che questo sistema produttivo continui a esistere contro le grandi produzioni di altri paesi che ovviamente hanno strutture produttive diverse ma che rischiano di appiattire il livello complessivo della produzione agroalimentare mondiale le sfide quindi sono imponenti noi abbiamo l'obbligo di lavorare assieme ai giovani decidendo con loro quali sono i nostri obiettivi e quali sono soprattutto gli strumenti che dobbiamo implementare perché quegli obiettivi vengano raggiunti grazie Ministro Patronali grazie infinite per questo per questo suo intervento ho apprezzato e sono sicuro come me i colleghi a questo tavolo e anche gli ospiti che sono che infatti vedo vedo che ci salutano a diverse parti del mondo sto guardando live la chat sono sono dalla Namibia dall'Uganda dal Nepal e da altri e da tanti altri paesi mi è piaciuto molto l'intervento che ha avvertito sull'innovazione e sullo spirito di innovazione che i giovani hanno e riconosciamo la necessità di dover richiamare i giovani verso i sistemi agroalimentari e li vogliamo richiamare perché come diceva giustamente lei Ministro i giovani hanno a cuore la sostenibilità forse più di qualsiasi altro gruppo della nostra società e gruppo economico e il lavoro che noi facciamo con i giovani e che facciamo con i sistemi agroalimentari sono sicuro che il collega Maurizio Martina consigliere del direttore generale della FAO sono sicuro che ci potrà dare anche delle altre indicazioni dell'importanza dei giovani e l'importanza dei programmi che stiamo portando avanti che sono come diceva lei sicuramente sull'educazione ma anche su tante altre tematiche consigliere Martina la parola a lei grazie grazie di cuore per questa occasione grazie al governo italiano per avere voluto questo appuntamento al ministro la ministra Dadone al ministro Patonelli mi sia consentito innanzitutto ringraziare di cuore l'Italia per la presidenza G20 di quest'anno per come sta conducendo questa presidenza per come sta lavorando in un momento storico molto particolare come questo a fare in modo che il G20 sia per davvero fino in fondo uno strumento di confronto di cooperazione e di azione noi abbiamo bisogno soprattutto in questo momento di ritrovare i luoghi della cooperazione multilaterale della cooperazione fra paesi e che l'Italia guidi in questo passaggio il G20 io penso davvero che sia una fortuna e devo un grande ringraziamento alla ministra Dadone per avere acceso questa collaborazione anche con la FAO in particolare lavorando al World Food Forum a questo appuntamento a cui ovviamente vi invitiamo dall'1 al 5 di ottobre sarà il tentativo di mettere in campo uno step successivo rispetto anche a questo lavoro per provare a rafforzare fin in fondo il protagonismo delle giovani generazioni dentro la grande sfida del cambiamento dei sistemi alimentari come chiave di cambiamento del mondo io penso che dobbiamo dirci alcune alcune cose molto molto chiare abbiamo una curva demografica che salirà salirà ancora io penso per fortuna nonostante la drammatica situazione della pandemia abbiamo trend demografici in aumento quindi dovremo sfamare più persone abbiamo trend trend di incremento della produzione agricola di cui ai prossimi anni in diminuzione rispetto agli anni che abbiamo alle spalle e questo lo si deve in particolare allo sconvolgimento climatico ambientale che tutti stiamo già vivendo il tema è trovare il nuovo equilibrio costruire un nuovo equilibrio declinare questa grande questione che chiamiamo tutti sostenibilità in una visione dello sviluppo del rapporto tra uomo e natura più equilibrato di quanto non sia oggi e dentro questo cambiamento cogliere tutte le grandi trasformazioni dentro questo cambiamento ci sono le trasformazioni delle diete non ho tempo e non è certo mia volontà rubare molti minuti ma è fondamentale per noi capire come stanno cambiando le diete nel mondo questa rivoluzione delle proteine che noi chiamiamo così perché le diete cambiano perché cambia l'accesso alle proteine animali e vegetali c'è un altro equilibrio che mette in discussione i sistemi agricoli ambientali alimentari allora io credo che le giovani generazioni i giovani devono stare pienamente dentro questa sfida e non certo solo per partecipare è stato detto bene prima da chi mi ha preceduto il tema non è solo la partecipazione il tema è la responsabilità il tema è l'assunzione di responsabilità e personalmente non trovo un'altra via che non quella di augurarmi e di chiedervi e di chiedere a qualsiasi giovane interessato a stare nella storia del proprio tempo di fare un passo in avanti ma non in luoghi dove non si decide nei luoghi dove si decide e quindi principalmente nelle istituzioni e quindi principalmente nelle istituzioni bisogna prendersi la scena e la scena non si prende nel corridoio si prende nei luoghi che sono deputati a prendere decisioni siano essi i luoghi della statualità degli stati delle istituzioni nazionali ma certamente anche i luoghi ad esempio del multilateralismo che hanno bisogno oggi più più di ieri di avere nuovi protagonisti io credo che questa sia la grande questione ha fatto bene prima l'amico ministro Patuanelli che ringrazio di cuore sempre per il lavoro che sta facendo anche con noi a dire chiaramente che ci sono alcune grandi sfide la principale per noi è proprio quella che richiamava il ministro Patuanelli come teniamo insieme la transizione ecologica con la transizione agricola con la transizione alimentare e non ci può essere transizione ambientale senza la transizione agricola e alimentare e però come si tengono insieme queste cose come si evita il conflitto e io penso che questa sia la nostra grande sfida ed è la ragione che ci ha spinto ci spinge a lavorare sul World Food Forum è la ragione che ci ha spinto a ospitare proprio in FAO il prevertice sui sistemi alimentari ancora una volta in collaborazione con l'Italia la ragione per la quale anche la FAO deve muovere in avanti questa sfida e deve ingaggiare le giovani generazioni attorno a questi nodi secondo me le tre grandi questioni sono queste tenere insieme nella transizione nel nuovo modello di sviluppo ambiente agricoltura alimentazione ma non come le abbiamo conosciute fin qui come possono essere tenere insieme tradizione e innovazione tradizione e innovazione le due cose si tengono non c'è innovazione senza capacità di riconoscere quello che ti ha portato fino a qui e quindi gli elementi di tradizione non sono delle chiavi di conservazione sono fondamentali per capire dove puoi portare la tua innovazione e poi io direi tenere insieme apertura e diversità l'ha detto bene ancora una volta il ministro Patuanelli noi non abbiamo bisogno di un mondo omologato noi abbiamo bisogno di un mondo aperto cooperativo nel rispetto delle diversità anche alimentari anzi io direi soprattutto alimentari quindi come tenere insieme apertura e diversità ecco in queste sfide c'è il protagonismo secondo me delle giovani generazioni che tante volte anzi oserei dire se mi è permesso soprattutto il più delle volte nella stragrande nella stragrande maggioranza dei casi su questi temi sono molto più avanti dei nostri discorsi talvolta noi facciamo giustamente uno sforzo anche di cambiare le nostre posizioni pensiamo di avere raggiunto la vetta della modernità e ci accorgiamo che c'è sempre qualcuno più giovane di noi che ha aperto un'altra porta ancora più avanzata noi abbiamo bisogno di queste persone che aprono questi porti grazie grazie consigliere Martina grazie Maurizio è stato sicuramente un intervento molto interessante hai tirato fuori un paio di tematiche che si collegano perfettamente con la nostra con la nostra prossima speaker la nostra prossima speaker è Ania Fortuna che è la vicepresidente dell'European Youth Forum EU Youth Forum e Ania non solo ha un'esperienza sul campo nel senso che è proprio nata da una famiglia in un agriturismo ha visto in prima mano l'impatto positivo che i sistemi agroalimentari rigenerativi possono avere però fin da giovane ha capito l'importanza non di partecipare ma di essere parte della soluzione di prendere in mano ed essere quindi veramente un attore principale è necessario alla creazione e l'implementazione delle soluzioni Ania can you hear us? Yes I can hello can you hear me? Benvenuta Ania welcome the floor is yours thank you so much thank you for inviting me especially thank you to our member organization the Nationalist Council of Italy it is really important for us that our organizations are also very strong stakeholders on the national level and that the decision makers recognize this so I'm really happy that the ministers are present here and that with that you acknowledge the existence of the National Youth Council and you also acknowledge the relevance of young people talking about this topic as you said this is a topic that is very dear to my heart it's something that I was growing up with I was observing my grandparents working hard on their farm seeing my parents kind of producing all this and serving it to gas so it is really important and now talking and looking with my friends that are farmers that are trying to defend their role as young farmers trying to defend their role as people that are relevant for this sector and this is important that young people are considered cross-sectorally so that not only when we discuss youth policies young people are on the forefront but also when discussing every single policies that you can find out there and for sure food agriculture sustainability these are the key topics we often have this saying that you have the need for a doctor maybe a few times a year for a lawyer maybe a few times in your life but you need a farmer a few times a day so it is important that these topics are brought and young people I really know a lot of very progressive farmers they have seen the world they have seen how other areas are farming they have seen the needs to improve farming in terms of having it more sustainable looking at all three aspects of sustainable development so that it is ecological that it is economical and that it also improves social well-being of them as farmers but also of people around so it was mentioned today already that there are a few important things why it is important to talk about this it's that we when we talk about food agriculture sustainability we talk about our health second thing is we talk about the environment taking care of the environment and the third and nowadays more and more important also to support rural areas agriculture areas I've seen many young people living rural areas because there's not a lot of opportunities there or agriculture as a sector is not as promising as a young person might hope for so there are so many dimensions we have to look at when discussing agriculture sustainability and circular economy it was said today already that education is important and for sure is one of the things that we're pushing forward on the national level but also the European Forum has two member organizations that are focusing on agriculture which is SEJA the European Council of Young Farmers and Rural Youth Europe but as well other members organizations that are working on environment sustainability and education is important because we have to make sure that young people from an early age already as kids see food as a value we have seen that for now it is not like that so when you go to the store just a simple example you look for shoes and you don't mind paying that extra those extra 20, 30, 50 or even more euros to buy expensive or well-known branded shoes but you go to the store and you look at the price and you will buy the cheapest one so we have to look at how to have food as a value when we will have food as a value we will have better customers better consumers and with this the food system would be growing it will be more ecological in a sense I said I have friends that are always saying to me Anja don't go to a supermarket and buy stuff go to a local farmer and then you figure it out yes I go to a local farmer that means that I can buy something from them that is less packaged it didn't travel miles and miles to reach my supermarket and after that I'm also supporting local environment in a sense of local economy so we have to look at so many levels when we discuss agriculture obviously one important aspect when talking about this is also ending hunger you know the population is growing and we have to figure out how to produce better smarter and why I'm listing all of these things is because I believe that young people have solutions to that I've seen so many young farmers that are looking for options how to do things better and what it is important is that things are being considered on the European level it's in this final stages of the common agricultural policies and young people have to be there to say what kind of future in agricultural policies they would like to hear they would like to know so really much appreciated for organizing this side of an event for organizing this panel because this really is important it was already said today that the generation working in this sector is getting older and older meaning how can we make sure that space for young people to enter this sector is there so there is really also when we talk about agriculture we have to look also on the side is this a promising quality labor environment for young people can they progress in this can they can they just you know not just survive but they can have quality life if they decide on this and what we have to also consider is that there is technology that brings a lot of innovations and young people are the most digital generation out there and young people are able to put this forward and are able to find solutions one of the things in the background document of this event that was also mentioned was circular economy and how better to push this circular economy in practice than through the ways we buy food and through the ways we consume food so this is something that has to be considered and as I said young people have to be in the first line and as it was said by the minister before much appreciated not just to listen to young people but also take them into account and implement things with them not just asking them for opinions yeah ma grazie veramente Ania grazie molto della non solo della tua della tua personale esperienza ma anche del dell'intervento importante che il European Youth Forum sta facendo seguiamo molto da vicino i vostri progressi e quello che state mettendo in campo e quindi sia a nome di tutti i partecipanti di oggi ma anche a nome del World Food Forum ci congratuliamo con voi e sicuramente ci sarà modo di continuare le nostre collaborazioni a proposito del World Food Forum io introduco adesso una collega Maria Di Benedetto una collega della FAO ma sicuramente una delle youth leader che io stimo di più è sempre stata si è sempre spesa a difesa del ruolo importante che i giovani devono avere all'interno dei tavoli decisionali e quindi penso che sia giusto che quando ci sono i tavoli decisionali quando c'è un tavolo con tre ministri fosse tu una delle persone a dover parteciparvi Maria è tra le altre cose anche uno dei co-lead della track Youth Assembly e Youth Action del World Food Forum e Maria do te la parola e ti dal benvenuto di Maria, abbiamo dei piccoli problemi tecnici con il tuo audio, apparentemente gli interpreti non ti sentono molto bene, quindi forse se potessi avvicinare il microfono alla bocca ti potrebbero... Is this better? Perfetto. Perfetto. Benissimo, riproviamo. Grazie Maria. Of course. The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals that was mentioned many times in today's event supports, among other objectives, sustainable consumption and production patterns. Alike, the 2019 Global Sustainable Development Report identifies transforming agri-food systems and nutrition patterns as an entry point to accelerate progress towards the 2030 Agenda aforementioned. But in order to achieve all of our ambitions, we must look at the goals as interlinked, interdependent, and united, as this topic is no walk in the park. Even more, we must remember that whatever has cause and consequences also has prevention, halting, and reversing. In recent years, as mentioned, demand for food has increased as an effect of population, economic, and urbanization rates that have grown increasingly worldwide. As a consequence, increased food waste occurs at all stages of the agri-food system production, including storage, consumption, and much more. Using the principles of circular economy provides a solution to minimize waste in agri-food systems and meet demand for food. And by implementing circular economy, there is also a possibility to use the waste in question as by-products or co-products. Through innovation, system thinking, and interconnectedness, these types of models and strategies may be and should be implemented within our agri-food transformation. To complement, embrace, and strengthen these efforts, the Youth Committee of the Food and Agriculture Organization of the UN has launched the World Food Forum. It is a youth-led movement and network of partners created for and led by youth to spark a movement that transforms these systems and that achieves the Sustainable Development Goals, including but not limited to the Zero Hunger Goal, SDG 2, the SDG 1 Against No Poverty, and SDG 13 revolving around climate action. With events, dialogue, and outreach extending throughout the year, the World Food Forum flagship event is set to launch from the 1st to the 5th of October 2021. It will gather major youth groups, influencers, companies, academic institutions, nonprofits, governance, media, and the public to drive awareness, foster engagement, and advocacy. But more importantly, to mobilize also resources in support of agri-food system transformation through youth-led action. Indeed, this recurring forum will come to life firstly as a week-long celebration featuring a range of events organized by our six tracks. The youth action sessions, innovation labs, educational activities, culinary arts events, film festivals, and music. The closer we get to the flagship event, the more events I participate in, like this one, the more familiar faces I find in the room. This shows how connected we all are becoming. But more importantly, at every event, I see new faces that we are only at the beginning. We are literally adding people to the table, reaching further and further. These events filled with youth leave no doubt. We are not just potential. We are not a good promise. We are not a quota to be reached. We are achievement, leadership, and change. And this is clearly just the beginning. The World Food Forum is more than just a week walk event. It will be a common, inclusive, and youthful platform that is meant to stay. And we truly hope to see you all there. Please look us up online at www.worldfoodforum.org or find us on social media to learn all the ways you may participate in this event. I wish you all the best for the rest of today and thank you once more for having me. Back to you, Matteo. Thank you, Matteo. Thank you, Matteo. Yeah. Thank you. Thank you, Matteo. Abby, thank you for recognizing that we are always saying that they are important and not always facilissimo avendo ogni tanto dei piccoli problemi di connessione. Maria hai fatto riferimento al World Food Forum, hai fatto riferimento all'importanza di attivare piattaforme continuative. La nostra prossima relatrice, la nostra prossima speaker è una persona che già a 16 anni aveva capito l'importanza dell'associazionismo e l'importanza che i giovani possano avere, giovani, donne, uomini, nel creare veramente delle decisioni, delle possibilità di cambiamento. E ad oggi la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, io do a te la parola e do anche il benvenuto. Grazie Matteo, io voglio innanzitutto ringraziare il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Ministro Dadone e non lo faccio casualmente perché ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto tantissimo ripetere la parola partecipazione e molto spesso il rischio che si corre e che la partecipazione diventi un processo astratto. Molto spesso ci chiediamo anche in che modo coinvolgere e favorire questi processi di partecipazione dei giovani appunto ai processi decisionali. Ania lo sa bene, in questi anni abbiamo portato avanti tantissime battaglie a livello europeo affinché la voce, come diceva anche l'onorevole Martina, dei giovani venisse ascoltata all'interno dei tavoli decisionali perché molto spesso si corre anche il rischio di favorire dei processi di partecipazione apparente. E perché dico questo e voglio ringraziare il Ministro, perché rispetto a ciò a cui anche molto spesso l'associazionismo giovanile era abituato, noi abbiamo notato un'inversione di tendenza. Questo evento non è soltanto la dimostrazione di come appunto le istituzioni si aprano all'ascolto, che io penso sia comunque importante, ma anche appunto a raccogliere quelle che sono le intuizioni, le esperienze, le difficoltà e le istanze delle giovani generazioni, ma è un evento che nasce attraverso la partecipazione. Lo ricordava il Ministro della Sarve che appunto il Ministero ha lanciato, ma io ricordo anche le tantissime riunioni che abbiamo fatto con il Dipartimento, con Diana, con te stesso Matteo, attraverso anche delle attività di ascolto, la realizzazione stessa di questo evento è stata appunto la dimostrazione di come la partecipazione dei giovani possa anche portarci a momenti appunto di confronto così importanti. E sono contenta oggi che appunto accanto alle istituzioni ci sia anche la rappresentanza di tantissime realtà giovanili, non soltanto appunto nazionali, ma anche internazionali. Lo ricordava sempre l'Onorevole Martina, perché è importante un evento come questo, perché la cooperazione soprattutto per un paese come il nostro, che ha anche una connotazione poi geopolitica particolare, è fondamentale, perché viviamo un po' il paradosso di occuparci noi che siamo fondamentalmente tra i principali poi anche paesi che, voglio ricordare soltanto un dato, nel 2019 abbiamo buttato nella spazzatura circa 16 miliardi di euro tra alimenti e bevande, siamo appunto paesi responsabili di questo spreco alimentare, è importante per noi collaborare anche con quei paesi dell'altra sponda del Mediterraneo che invece in qualche modo subiscono gli effetti di questo spreco che soprattutto i paesi occidentali hanno messo in campo. E come noi proviamo ad affrontare diciamo queste difficoltà alle quali paesi soprattutto dell'Africa ma anche altri paesi dell'America Latina, dell'Asia vanno incontro e che noi stessi purtroppo subiamo, perché come diceva l'onorevole Martina, nel 2050 arriveremo più o meno a 10 miliardi di cittadini, cioè è un numero cospicuo, abbiamo bisogno di trovare modelli di sostenibilità non soltanto in termini economici ma quando il Ministro Patronelli parlava di sostenibilità sociale forse quello è l'obiettivo al quale noi dobbiamo andare incontro e per arrivare a questi modelli di sostenibilità sociale io penso si possa partire dalle esperienze che noi oggi abbiamo non soltanto quella di Ani appunto che è un'esperienza diretta che ha vissuto anche all'interno di un contesto economico e sociale completamente diverso da quello ad esempio nazionale ma anche attraverso l'esperienza dei ragazzi dell'associazionismo giovanile. Io sono contenta che per esempio nei successivi panel accanto a figure anche istituzionali, accademi che ci siano esponenti nel mondo dell'associazionismo giovanile, di grandi realtà come quella di confartigianato, di col diretti giovani impresa o anche di confagricoltura perché? Perché potrete ascoltare le storie di appunto ragazzi e ragazze che hanno fatto delle loro esperienze di vita, delle vere e proprie esperienze lavorative innovative. Noi siamo spesso considerati, abbiamo trend negativi per quanto riguarda i giovani, stiamo lavorando tra l'altro e il PNRR è stata anche una risposta rispetto alle difficoltà che le giovani generazioni hanno incontrato negli anni precedenti e che soprattutto purtroppo incontreranno nei prossimi anni perché è innegabile che gli effetti nei fastidi di questa pandemia impatteranno soprattutto sulle giovani generazioni, ma noi abbiamo grandi strumenti e abbiamo la possibilità di ripartire da quei dicevo 56 mila ragazzi che ci hanno portato ad essere tra primi paesi europei che oggi hanno appunto il maggior potenziale di poter ritornare come diceva l'onorevole Martina a rendere innovativi dei mestieri tradizionali perché oggi abbiamo davvero tantissimi ragazzi che sono ritornati ai campi e l'hanno fatto all'agricoltura tradizionale, l'hanno fatto mettendo in campo innovazione e nuove competenze. Arrivo soltanto al punto delle nuove competenze per spendere due parole anche perché so quanto il ministro sia sensibile rispetto al tema delle nuove competenze e io concordo tantissimo su questo perché negli anni abbiamo commesso un errore, quello di pensare che la formazione sia soltanto la formazione accademica, cioè la formazione che diamo ai ragazzi dietro dei banchi di scuola, non è assolutamente così l'associazionismo appunto non soltanto giovanile ma in generale il terzo settore nella dimostrazione. Oggi a livello europeo si parla di educazione non formale e oggi sappiamo che l'educazione non formale è un valore aggiunto non soltanto appunto per favorire dei processi di cambiamento sociale ma anche per favorire dei processi di cambiamento economico perché si tratta di quelle skills che poi all'interno dell'agenda 20-30 sono anche ben indicate che noi negli anni abbiamo fatto fatica ad introdurre all'interno del nostro sistema anche di istruzione. Per cui ripartire da qui, da un lato appunto dalle grandi potenzialità e dall'innovazione che le giovani generazioni anche a livello nazionale hanno già messo in campo. Io voglio soltanto ricordare la storia, ho conosciuto Matteo, una ragazza dei giovani della Coldiretti che aveva lasciato completamente improvvisamente l'università, frequentava giurisprudenza per aprire un allevamento e aveva reso questo allevamento attraverso appunto un po' come raccontava il Ministro Patuanelli attraverso la sua formazione che era anche legata all'innovazione, lo aveva reso un esempio che fu appunto poi anche premiato a livello nazionale come appunto l'esempio di una giovane che partendo da zero senza alcuno strumento economico è riuscita attraverso quelle competenze che aveva acquisito anche all'interno dei giovani della Coldiretti aveva reso appunto la sua esperienza, un'esperienza di sostenibilità da appunto raccontare anche a livello nazionale. E chiudo soltanto dicendo che questo appuntamento appunto è importante perché come dicevo la partecipazione va non soltanto raccontata ma soprattutto praticata. Noi proviamo a farlo, vedo il capodipartimento, attraverso diversi strumenti che tra l'altro a livello nazionale dovremmo integrare e rafforzare perché ad esempio l'Unione Europea ha impostato dei modelli di consultazione permanente, noi portiamo avanti un processo che proprio a livello europeo si chiama di dialogo strutturato e il nome di per sé dà proprio l'importanza come diceva Ania di consultare e far partecipare i giovani non soltanto quando si tratta di politiche per i giovani ma in generale quando si tratta di politiche per il Paese, in generale di politiche pubbliche e per farlo abbiamo bisogno concretamente non soltanto di lanciare un segnale come appunto ha fatto il Ministro ma non soltanto di relegare però la sensibilità della singola autorità politica a questa capacità ma di individuare degli strumenti e dei meccanismi come accade in altri Paesi europei di consultazione permanente dei giovani non soltanto in tematiche e per tematiche centrali come questa dell'economia circolare ma in generale per tutte quelle grandi appunto politiche che il nostro Paese dovrà mettere in campo nei prossimi nei prossimi anni grazie grazie Maria grazie veramente e hai toccato sicuramente nel tuo nel tuo intervento tutto quello che che più sta a cuore a chi lavora con i giovani ma soprattutto anche a chi lavora per i giovani come la Ministra Dadone il Ministro Patuanelli e sicuramente anche noi alla FAO con il segretario Martina. Un'altra persona che sicuramente ci darà delle indicazioni perché fin dal 1989 lui ha cominciato a lavorare sull'economia circolare che ancora non si chiamava così però nel 1989 Carlo Pietrini già fondò il Slow Food International Slow Food Movement e poi ha seguito la fondazione della prima università delle scienze gastronomiche una persona che quindi ne sa tanto e tanto più di noi però è anche una persona che ha la capacità di condividere la conoscenza e soprattutto di far sì che la conoscenza e queste nuove tendenze continuano a essere anche di dominio dei giovani io partecipo molto spesso con la Youth Coffee Coalition che è sicuramente una delle iniziative dello Slow Food e vedo come i giovani sono in prima linea quindi Carlo Pietrini io darei a lei la parola e benvenuto all'argomento di oggi. Grazie a voi per l'invito e vorrei entrare subito nell'argomento mettendo in evidenza come il nostro paese e il mondo in genere sta entrando in una nuova fase storica una fase storica che durerà diverse decine di anni forse qualche secolo e che è la fase della transizione ecologica. La situazione ambientale è diventata l'elemento l'elemento di preoccupazione planetaria siamo davanti a situazioni veramente emergenziali e quindi la realtà chiede a tutti noi di essere soggettativi in questa nuova fase storica per realizzare una giusta transizione ecologica non è sufficiente realizzare un ministero o sviluppare tematiche di conoscenza generale è importante mobilitare molte persone e realizzare a partire dal basso cambi di paradigmi, stili di vita modi di produrre, modi di viaggiare, è un cambio che ci coinvolgerà per diversi decenni e che deve vedere una partecipazione corale. Ora di questo disastro ambientale io vorrei sostenere in questa sede che il sistema agroalimentare planetario è forse il maggior responsabile è forse il maggior responsabile, pensiamo solo alle emissioni di CO2, il sistema agroalimentare è responsabile per il 34% di queste emissioni, tutto il sistema della mobilità, quindi aerei, macchine e quant'altro, incide per il 17%. Il 34% è una proporzione enorme, se poi vogliamo andare a ragionare su una delle tematiche più urgenti che è la riduzione della plastica a monouso che viene dispersa e che genera problemi veramente ambientali enormi, ebbè il sistema alimentare è uno dei produttori più massivi di questa plastica. Ora cambiare questi paradigmi è uno sforzo enorme e qui arriva la prima contraddizione che è questa, i tempi ci chiedono con urgenza di intervenire per fermare questa situazione, in particolare quella del cambio climatico, ridurre la velocità con la quale stiamo andando in aumento della temperatura globale e ci chiedono urgenza e la contraddizione è che raggiungere questi obiettivi con la piena coscienza di masse enormi a livello planetario ha dei tempi molto lento, molto lento. Quindi questo è il primo elemento sul quale noi dobbiamo rifiutare, in particolare occorre ridare il senso alle parole, vedete oggi c'è una parola che a mio modo di vedere nella misura in cui viene abusata rischia di perdere anche il senso. Oggi sostenibilità è la parola più diffusa a livello mondiale, tutto è sostenibile, anche personaggi che per sua natura o movimenti associati che sono insostenibili parlano di sostenibilità. Ma diamo un senso alle parole, sostenibilità deriva da sustain, sustain è il pedale del pianoforte che allunga la nota. Io batto una nota sul pianoforte, do, se mentre batto questa nota schiaccio il sustain, il suono diventa do, si allunga. E hanno ragione i nostri cugini francesi che traducono sostenibilità in durable, praticamente le nostre azioni, tutto quello che noi facciamo nel produrre, anche nell'organizzare, anche nel rendere, nel fare educazione, tutte le nostre azioni debbono dare un risultato che dura di più di quello che viene comunemente percepito. Questo però guardate che è un cambio di paradigma di proporzioni enormi, perché noi siamo cresciuti nella logica che la produzione, anche se durava poco, e che importa? Si compra, si compra altre cose, non si riassetta un paio di scarpe o uno strumento di quelli che ci portiamo addosso semplicemente con la manutenzione. Costa di meno, costa di meno comprarlo nuovo, ma questo ragionamento è diventato un ragionamento suicida. Ecco, parlare con questa logica significa che dobbiamo passare da un consumo compulsivo a un consumo ragionato, che è doppiamente utile nel campo del cibo, nel campo del cibo se non c'è un consumo ragionato, responsabile, condiviso, noi non otterremo cambiamenti profondi e da questo punto di vista va subito superato un antagonismo tra produttori e cittadini. Siamo tutti nella stessa barca. Io invito i giovani che ci stanno ascoltando e al quale noi affidiamo il nostro futuro a ragionare in termini di collaborazione tra produzione e cittadinanza, perché in questo dialogo, in questa crescita, ci sta anche quel valore aggiunto che loro meritano se decidono di fare un'opzione in campo produttivo. E allora veniamo al dunque, veniamo al dunque. È molto importante l'innovazione e la tecnologia, ma il nesso non è questo, il nesso non è solo questo, il nesso è che per fare una scelta di vita, che in questo nostro paese, sto parlando per l'Italia, negli ultimi due anni ci sono leggeri segnali di ritorno alla terra, va bene, dopo 50 anni di abbandono. Per tornare alla terra bisogna che ci sia, come dire, la piena coscienza che il tuo lavoro è giustamente remunerato e che sia riconosciuto. Questa è l'esigenza più grande che hanno i nostri giovani e che hanno i giovani contadini. Se noi continuiamo ad avere un sistema per cui il contadino è l'ultimo che decide il prezzo, perché prima lo decide un sistema distributivo, noi non andiamo da nessuna parte. Allora vorrei dire, è già stato evocato prima, la differenza tra prezzo e valore. Per 50 anni siamo andati avanti a ragionare sul cibo, sempre promuovendo un prezzo più basso, sempre un prezzo inferiore. Adesso siamo arrivati a 2. Sotto di questo prezzo non c'è più la possibilità di poter pagare giustamente le remunerazioni e non andare a forme o di schiavismo da un lato o di produzione intensiva dall'altro lato. È giusto ridare valore al cibo e ridare valore al cibo rischiede anche quel lavoro di, come dire, di dialogo produttori-consumatori. Vengo al dunque, vengo al dunque. Parlare di distribuzione è l'elemento di innovazione più importante in questo momento. Cosa voglio dire? Voglio dire che ragionare di mercati contadini, dove i contadini dialogano direttamente e fanno il prezzo dei prodotti. Ragionare di comunità di supporto di cittadini che acquistano prima i prodotti e che poi dopo hanno un rapporto di legame anche con l'economia locale, rafforzando l'economia locale. Ragionare di piccola distribuzione che va mantenuta nei piccoli borghi, che va mantenuta nella bottega di vicinato perché ha un valore sociale e relazionale enorme, significa dare valore al cibo, significa dare valore. Noi invece siamo tutti protesi su un sistema di distribuzione concentrato che ha distrutto le piccole botteghe. Adesso arriverà, ed è arrivata, la distribuzione online che distruggerà i grandi supermercati e le piccole botteghe. Allora io faccio un ragionamento. È mai possibile che la specificità del nostro paese, che è determinata da borghi incantevoli, stupendi, questi borghi perdono la socialità perché non c'è più una bottega, non c'è più un'osteria, i parroci non ci sono più, diventano tutti luoghi dormitori. È ora di pensare a una bottega del ventunesimo secolo all'interno della quale si sviluppano rapporti di relazione e si sviluppino anche rapporti di collegamento con la produzione agricola locale. Questa è l'innovazione più urgente, questa è la realtà, la fantasia che voi giovani dovete mettere in pista se volete salvarvi, se volete avere l'opportunità di strappare dei prezzi giusti e non essere trattati come dei manovali per i quali alla fine il prezzo lo decidono altri. Il prezzo lo deve decidere il produttore, lo deve decidere questa realtà, in diffusa. Concludo, concludo. Questo sistema alimentare produce cibo per 12 miliardi di livelli. Noi siamo attualmente 7 miliardi e 400 milioni. Ammesso che entro il 2050 arriveremo ai 10 miliardi, noi oggi stiamo già producendo di più. Quindi c'è uno spreco equivalente al 30%. Molti si limitano a pensare allo spreco alimentare, ma badate, per produrre quel 30% che noi buttiamo via in varia maniera, perché nel sud del mondo si butta via perché c'è una cattiva distribuzione, nel nord del mondo, non andiamo alle cause, il 30% lo buttiamo via. Quanti milioni di ettari sono occupati per realizzare questo cibo? Quanto suolo è occupato? Due. Quanta acqua consuma il 30% di questo cibo che noi produciamo? È una massa enorme, impressionante. Questo sconquasso non può continuare, non può continuare. Ergo, lavorare su una distribuzione e rafforzare l'economia locale è un elemento che ci aiuta a ridurre lo spreco, a ridurre lo spreco e a rendere protagonisti i giovani contadini, i giovani che vogliono tornare alla terra, a essere artefici e, come dire, protagonisti nel prezzo e nel modo di poter lavorare. Questo significa dare una speranza a chi lavora alla terra. Noi non possiamo pensare un contadino con la mentalità di un contadino di una volta, che peraltro non c'è più, peraltro non c'è più, sono già tutti scomparsi. Noi dobbiamo pensare a un contadino del ventunesimo secolo che deve avere i diritti di tutti i lavoratori, mandare i figli all'università, fare le ferie e per fare questo deve avere la dignità di stabilire i prezzi e di avere dei rapporti di relazione. Nei bilanci non si calcola mai l'economia di relazione, ma l'economia di relazione è al primo punto di molte aziende, mantenere la relazione e questo è quello che il mondo agroalimentare deve fare, pena, pena, diventare principale responsabile di un disastro a cui noi tutti stiamo assistendo. Io penso proprio che questo momento storico è determinante e non facciamo fare alla fine la transizione ecologica nel non dargli valore, stiamo entrati in una nuova era, questa era non appartiene alla gente della mia generazione, anzi, chi danno ne abbiamo già fatto abbastanza, merita la nuova generazione di diventare protagonista e artefice di questo cambiamento, nella coscienza che se non c'è la marginalità economica e anche di gratificazione per fare questo mestiere, allora manca il perno del tutto. Concludo con un esempio, molti in questo momento stanno concentrandosi sul fatto che non ci sono più camerieri, che non ci sono più aiuto e cuochi, bel disastro. La narrazione di molta gente si concentra, primo, i giovani non hanno più voglia di lavorare come una volta, secondo, il rendito di cittadinanza ha imbarbarito questa cosa qui, tutti ragionano in questo modo qui. Il terzo elemento, che è il più importante, non è stato affrontato da nessuno, Il terzo elemento è il fatto che questo sistema ristorantizio ha trattato i camerieri con stipendi miserevoli per troppo tempo e adesso è finita questa logica, bisogna riconoscere anche a questi lavori il giusto prezzo. Se questo avviene vedrete che i giovani torneranno, ma non è possibile continuare a ragionare, dare la colpa al rendito di cittadinanza o alla poca voglia di lavorare. Bisogna pagare il giusto, prima si paghi il giusto, dopodiché diventa anche nuovo e innovativo fare il cameriere come fare il contadino. Grazie, grazie infinite per queste parole finali, ma soprattutto per aver toccato su delle tematiche importantissime, importantissime come il ruolo che i sistemi agroalimentari hanno e l'impatto non solo positivo che hanno al momento, ma hai anche, Carlo, toccato un elemento importantissimo che è quello della partecipazione dei giovani e che sono veramente loro a dovere essere i protagonisti. Ministra Dadone, io ho avuto veramente il piacere di collaborare con lei nei passati mesi e ho visto come lei e il suo team siete veramente dedicati a una partecipazione, mi permetta, non a una partecipazione ma veramente a un ruolo chiave che i giovani possano avere, ai tavoli decisionali e ai tavoli di discussione politica, come evidentemente abbiamo oggi. Abbiamo tre ministri, ma abbiamo anche tanti giovani e i pannelli sono composti da giovani e da esperti e quindi vorrei sapere da lei cosa possiamo fare veramente per assicurare che i giovani partecipano ai tavoli decisionali, ai tavoli politici in maniera funzionale e funzionante. Grazie, innanzitutto moltiplicare l'occasione di confronto come questa anche se non si è magari tutti d'accordo su alcuni punti di vista è giusto riuscire a farlo, dare l'opportunità di confrontarsi e di permettere ai ragazzi di offrire il proprio punto di vista senza ascoltarli e basta come abbiamo detto più volte ma provando a costruire proprio eventi che partano dai loro stimoli. È chiaro che io penso che anche rispetto all'intervento del Presidente Petrini che mi sento di riprendere in parte anche transizione ecologica è importante che sia un processo che parta dal basso con il coinvolgimento in particolare da parte dei ragazzi nel riempire quello che rischia di diventare poi non solo una parola soltanto ma proprio un concetto vuoto se poi la partecipazione dal basso non riesce a riempire effettivamente di contenuti ciò che facciamo. I decisori politici non hanno in tasca la verità assoluta come giusto che sia non la devono avere. È forse anche un po' un fattore culturale quello di aprirsi ai momenti di confronto e ad aprirsi al coinvolgimento non solo in questo caso oggi parliamo dei giovani ma secondo me andrebbe steso in maniera più ampia a tutta la popolazione a dei momenti di consultazione che permettano di indirizzare in parte il decisore politico proprio perché non abbiamo la verità in tasca non dobbiamo sapere tutto è giusto confrontarsi per costruire dei processi che siano dei processi anche di interiorizzazione di ciò che poi diventano le decisioni politiche oggi proprio questo side event nasce come dicevamo prima da una consultazione che abbiamo voluto costruire e i tavoli tematici nascono dalle proposte che sono state avanzate dai giovani e tematiche importanti come quella dell'economia di relazione credo che dovrebbero essere spunto di un ulteriore magari tavolo di riflessione in un'altra occasione ma il fatto di provare a spingere l'economia dei piccoli borghi e non soltanto valorizzare questo lo prendo proprio come spunto dell'intervento le piccole comunità di cui tanto abbiamo sentito parlare o di quanto si è discusso su come poter valorizzare questi comunelli delle nostre aree ma poi effettivamente non si spinga a mantenere aperti i negozi di vicinato questo effettivamente è un tema che deve essere discusso con i ragazzi anche per capire se poi da parte loro c'è questo tipo di attenzione per cui non solo consultazioni ma provare a moltiplicare le occasioni di confronto come quella di oggi ponendoci tutti di fronte alla domanda se la via che abbiamo deciso di percorrere sia effettivamente quella giusta e ad aprirci un confronto che sia costruttivo in questo senso quindi è un percorso culturale ma che è fatto anche di tavoli quotidiani come quello che proviamo a fare oggi Grazie Ministro Dallone e approfitto di visto che stiamo parlando di politiche e di partecipazione politica dei giovani vorrei chiedere al Ministro Patuonelli abbiamo già parlato delle politiche agroalimentari che il nostro paese sta portando avanti e mi piacerebbe pensare che stiamo puntando a politiche alimentari più eque, più sostenibili e più ambiziose mi dica cosa state facendo in questo ambito e come possiamo assicurarci che i giovani siano parte di questo processo ne aveva già parlato in un certo senso parlando di innovazione ma parliamo dal punto di vista politico e di coinvolgimento politico la parola a lei Sì, grazie dopo rispondo ma prima consentitemi qualche parola rispetto all'intervento del Presidente Petrini che come susa a dire ha dato il bianco perché credo che sia evidente che nel percorso anche a me le parole sostenibilità green resilienza sono parole che mi fanno venire ormai l'orticaria da tanto vengono utilizzate oltre ad essere intollerante ad alcuni cibi purtroppo sono intollerante anche a queste tre parole ormai il grande rischio è che l'uomo dimostri la veridicità di quelle teorie che dicono che è una specie animale autoestinguente perché non siamo in grado di invertire la rotta verso l'estinzione perché quel cambio di rotta ha due elementi che sono terribilmente difficili da affrontare il primo è che o viene fatta da tutti o quel cambio non c'è perché è inutile che io vado in giro col monopattino elettrico e in altri paesi del mondo si produce che ha ancora acciaio col carbone e non non in pochi luoghi viene fatto perché viene fatto ancora anche primo e questo problema come si evidenzia si evidenzia anche dal fatto che i paesi che oggi devono fare dei percorsi di sostenibilità come tutti gli altri ci dicono ma è il 7% dei paesi mondiali hanno prodotto il 90% di produzione dei gas climalteranti e adesso che tocca a noi lo sviluppo economico e sociale ai nostri paesi ci dite che non dobbiamo più produrre niente perché avete consumato tutta la disponibilità di consumo che si poteva fare nella storia del paese e allora questo è un ragionamento che anche ha una portata e un interesse reale il secondo elemento che invece è molto più politico la testugine è un animale che è lento non è lento soltanto in come si muove è lento anche in come assimila ad esempio i farmaci uno dei problemi dei veterinari che danno per addormentare una testugine per fare un intervento chirurgico gli danno il farmaco e questa si addormenta dopo 7 ore perché il suo metabolismo è fatto così esattamente allo stesso modo le scelte politiche che si mettono in campo oggi rispetto al problema del cambiamento climatico daranno i propri effetti fra vent'anni la politica ha bisogno del consenso domani non fra vent'anni siccome queste scelte per essere efficaci devono essere radicali e le scelte radicali ti portano un po' di consenso da un lato ma te ne tolgono tanto dall'altro chi fa politica dice ma chi se ne frega io non prendo queste decisioni perché devo mettere in discussione i sistemi produttivi del mio paese per fare qualcosa che avrà un effetto fra vent'anni di cui sicuramente io politicamente non godrò queste due cose sono pericolosissime il mio terrore è che si dimostri che l'uomo è invece proprio una specie animale autoestinguente che porterà con proprie scelte alla propria estinzione Petrini parlava di diritto al reddito è verissimo come fa un contadino che ha quattro ettari di azienda a contrattare il prezzo con la grande distribuzione con la GDO o con i mercati telematici oggi e non può farlo a meno che non si creino dei percorsi che stiamo cercando di creare e in fase di discussione alla Camera e al Senato il parere sul decreto legislativo delle pratiche sleali o abbiamo ISMEA che determinerà il costo di produzione dei beni se un contratto viene sottoscritto al di sotto dei costi di produzione parte un'ispezione dell'ispettorato del 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 MIPAF per verificare se c'è una pratica sleale una concorrenza sleale c'è un un rapporto sleale tra produttore e acquirente lo facciamo citavo prima i contratti di filiera perché per aderire a un contratto di filiera deve esserci una garanzia che è quella del prezzo che viene garantito al produttore oggi purtroppo chi ad esempio nel settore latero caseario chi sta dentro un contratto di filiera ci sono esempi molto virtuosi il produttore ha un riconoscimento di un prezzo alla stalla che è decisamente più alto del piccolo produttore che non sta all'interno di un contratto di filiera questo è fondamentale perché oggi ad esempio sempre nel settore alpino caseario vediamo quello che citava il presidente Petrini cioè chi produce il latte lo produce a un costo gli costa più di quanto in cassa per la vendita di quell'età di latte e questo oggettivamente tempi inaccettabili che cosa facciamo quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo per avvicinare i giovani e beh intanto far sì che quello che diventi un lavoro attrattivo non soltanto dal punto di vista romantico perché lavorare alla terra è bello ma perché ti porta al reddito ti dà una possibilità di vivere di sopravvivenza dignitosa ti dà la possibilità di far crescere i tuoi figli in modo dignitoso pagando in università sempre come diceva il Presidente Petrini questo è il primo modo ovviamente oggi non abbiamo un tema di risorse le risorse sono dignitose rispetto a quello che dobbiamo fare e i percorsi che stiamo mettendo in campo il problema è avere la capacità di far sì che quelle risorse non vengano sprecate ma vengono investite e torniamo al fatto di fare delle scelte abbiamo il piano strategico nazionale da scrivere e lo stiamo facendo prima volta questo passaggio epocale della nuova PAC che dà agli stati membri la possibilità di scriversi un piano strategico nazionale noi non dobbiamo aver paura di decidere abbiamo gli obiettivi sono chiari discutiamo su qual è la strada migliore ma poi scegliamone una e percorriamola fino in fondo questo consentirà di creare un'agricoltura che guardi davvero il 2050 e credo che se saremo bravi a farlo sarà uno dei settori più attraenti per i giovani perché c'è la parte romantica ma c'è anche tanta appunto innovazione sviluppo di nuove competenze e soprattutto c'è la custodia del territorio e credo che sia un elemento centrale che oggi i giovani vedono come punto di arrivo del loro percorso professionale grazie grazie veramente ministro Patunelli ha citato e ha fatto riferimento sicuramente degli elementi importantissimi mi riallaccio alla riflessione sulle catene di valori perché le catene di valori e tutti gli stakeholders che lavorano e funzionano o sono elementi funzionali nella catena dei valori sono sicuramente degli elementi centrali che noi alla FAO e le organizzazioni multilaterali guardiamo e consigliere Martina lei ha avuto un'esperienza sia come ministro quindi guardando le politiche proprie di un paese nazionali e adesso come consigliere del direttore generale della FAO sta guardando anche al multilateralismo quindi all'ingaggio di tutti quegli stakeholder che sono parte degli attori che poi di cui fanno parte nelle varie catene di valori nelle economie circolari ma anche nell'agroindustria nei settori nei sistemi agroalimentari pensiamo a quali quali sono i ruoli che effettivamente questi le organizzazioni come la FAO e questi stakeholders importanti possono giocare nelle economie circolari e come possiamo favorire il ruolo dei giovani nelle economie circolari e proprio essere degli attori chiave nel multilateralismo sono già state dette tante cose credo utili anche da questo punto di vista e io penso che le agenzie come FAO hanno bisogno di avere dentro di sé sempre di più protagonisti decisionali di queste agenzie e anche generazioni che sentono in termini nuovi questa sfida di responsabilità che anche il mio amico Carlin Petrini ha tratteggiato giustamente prima con il suo intervento noi abbiamo bisogno di fare multilateralismo anche in chiave agricola alimentare abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio per le ragioni che abbiamo detto qui perché produciamo molto sprechiamo molto c'è un grande tema di diseguaglianza di accesso al cibo c'è una grande sfida che ci riguarda tutti che ha a che vedere proprio con l'incrocio tra transizione ecologico ambientale e transizione agricola alimentare nuovo modello di sviluppo mai come oggi c'è bisogno di costruire anche progetti che aiutino le comunità locali a fare nuove politiche rurali sono decine 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 per fortuna ogni giorno le azioni che ad esempio la FAO fa ovunque nel mondo in particolare nelle aree più in sofferenza per accompagnare queste azioni di sviluppo che si tratti di vaccinare bestiame in Afghanistan o di portare sementi nello Yemen o di riorganizzare i corsi rigui pochi e difficili in Siria o di mettersi a ragionare di come fare nuova forestazione in Africa o di aiutare le comunità dell'America Latina serve qualcuno che si mette insieme alle comunità locali a organizzare queste azioni e sono azioni di sviluppo rurale ma sono anche azioni di piena cittadinanza hanno a che vedere con quel grande tema che che Carlin Petrini prima richiamava che è la dignità delle persone un nostro comune amico grande italiano un grande regista come Ermanno Olmi diceva viene prima la dignità di chi produce poi il mercato è sempre stato come dire un grande tema e lo è ancora oggi di più poi costruire le condizioni perché ci sia questo nuovo modello è la sfida che veniva richiamata anche prima dal Ministro Patonelli bisogna fare politiche economiche politiche sociali politiche aziendali politiche di comunità perché ad esempio passare dalle parole ai fatti nell'idea di proteggere i territori più periferici nella loro vitalità anche di produzione agricola alimentare diciamoci la verità è molto complicato perché in un'economia globale dove i confini non ci sono più ci sono grandi opportunità ma ci sono anche maggiori difficoltà io non mi iscrivo nella categoria di quelli che guardano al passato e non vedono i grandi passi avanti che l'uomo ha fatto non è vero che è andato tutto male negli anni passati abbiamo si sono prodotti dei guasti che oggi vanno assolutamente affrontati ma io non me la sento di dire che si stava meglio cent'anni fa e se ascolto le voci di tante persone che lavorano anche con noi su questi temi da dove arrivano che cosa hanno visto che cosa è successo alle loro comunità non me la sento di dire che si stava meglio quando si stava peggio mi è chiaro che questo non basta però per stare meglio in futuro e quindi la questione di affrontare con responsabilità alcuni nodi questo fondamentale del cambio di modello che ha ragione Carlin non è solo economico è proprio un'altra idea del rapporto tra uomo e terra e tra uomo e comunità ed è qualcosa di più di una politica è una consapevolezza e su questo l'idea che mi ha sempre affascinato è che anche agenzie come la FAO nate immediatamente dopo la guerra la seconda guerra mondiale nate nel 1947 abbiano ancora questa aspirazione perché nasce nel 1947 la FAO c'è una ragione storica e non a caso nasce nel 1947 bisogna tornare forse ad avere un po' quella quella aspirazione e sapere che anche le cose che facciamo noi hanno un senso in questa grande sfida non sono solo tecnica professionalità politica agricola politica agraria non è solo economia è un'idea di futuro del mondo e in questo io penso che le giovani generazioni oggettivamente insisto sono sempre più avanti lo sono state anche quando a Genova vent'anni fa piuttosto che in altri contesti erano protagoniste di movimenti che aprivano un grande interrogativo rispetto a dove stavamo andando bisogna riconoscerli poi magari le risposte non erano tutte giuste ma fa nulla ma la questione di chi ha colto prima il limite di questa cosa secondo me va comunque riconosciuta in particolare ai ragazzi e alle ragazze del nostro tempo e a quelli che verranno grazie grazie Maurizio grazie consigliere Martina devo devo darti ragione forse mai come oggi i giovani sono decisi a essere attori protagonisti e forse mai come oggi possiamo imparare da loro come e quale direzione poter prendere perché è vero stiamo dando loro gli spazi politici è vero stiamo dando loro supporto economico e a sviluppo dell'innovazione però sono stati loro e sono da diversi anni oramai che io lavoro con i giovani in diversi in diversi modi in diversi mondi forse però mai come ora sono decisi a essere gli attori principali di questo cambiamento e di questa trasformazione lo abbiamo visto forse me lo puoi confermare tu Maria con le consultazioni online che abbiamo fatto dove in meno di due settimane più di 5.000 giovani hanno espresso le loro preoccupazioni sicuramente ma anche le loro soluzioni hanno parlato di cosa vogliamo vedere essere fatto non hanno parlato non si sono lamentati perché i giovani propongono non cercano di distruggere ed è proprio per questo che ti vorrei chiedere come possiamo far sì che il ruolo e queste proposte dei giovani siano ascoltate e soprattutto messe in opera ma complessa però abbiamo come dicevo Matteo abbiamo avviato un cambio di passo io davvero ci tengo a ribadirlo non perché c'è qui accanto il ministro ma perché la modalità attraverso la quale è anche appunto come dicevi in apertura questo evento è stato realizzato è la chiave di svolta perché la chiave di svolta perché come tu dicevi è nato sì da un processo di consultazione online ma anche da un processo di consultazione continuativo in questi mesi ci siamo interrogati addirittura su chi coinvolgere nell'ambito della discussione insieme ragazzi lo abbiamo fatto appunto come dicevo con il contributo del ministero ma anche del dipartimento oltre che della FAO a ciò però bisogna individuare e io di questo ne sono convinta degli strumenti anche legislativi che ci consentano delle consultazioni permanenti programmate perché lasciare poi alla sensibilità della singola autorità politica come dicevo prima dei percorsi che invece devono essere strutturati come accade anche a livello europeo è importante noi oggi ne abbiamo la dimostrazione a livello europeo il nostro paese se lo fa ad esempio c'è un meccanismo Ania me lo può confermare che è quello di una consultazione permanente che tra l'altro è semestrale su alcune priorità che la commissione europea individua e rispetto a queste priorità chiede ai giovani effettivamente che cosa fare e ti posso conformare che ad esempio oltre al fatto che questo lo dico perché è importante ora non me ne voglia nessuno ma siamo il paese che ha coinvolto e che ha avuto la maggiore partecipazione giovanile a livello europeo Ania lo sa proprio a livello di risposta e di partecipazione di ragazze abbiamo avuto il numero più ampio e questo è importante perché molto spesso si parla anche di una scarsa partecipazione dei giovani ai processi regisionali invece abbiamo la dimostrazione di quanto i giovani partecipano non soltanto attraverso i meccanismi canonici dei partiti ma soprattutto anche attraverso movimenti informali gruppi informali o l'associazionismo come dicevo in apertura quindi dicevo abbiamo oggi degli strumenti e dei meccanismi europei importanti che sicuramente possiamo rimodulare ma soprattutto anche qualche tempo fa il ministro ha messo in campo uno strumento fondamentale che è quello appunto di un comitato di valutazione che è un comitato di valutazione al quale partecipano non soltanto appunto a storie istituzionali del mondo accademico ma anche appunto rappresentanti del mondo giovanile noi per esempio lo abbiamo fatto aprendo questa partecipazione all'associazionismo giovanile abbiamo chiesto ai ragazzi da che cosa anche partire per poter lavorare all'interno di questo strumento importante che il ministro ha messo in campo ma basta e davvero concludo Matteo è necessario soprattutto anche ripartire e io lo dico dal sostegno all'attività delle organizzazioni e davvero chiudo perché ne parlavamo questa mattina l'Italia sconta un deficit che è quello di non aver investito fattivamente nel supporto anche a livello territoriale di quei movimenti non soltanto appunto giovanili che hanno determinato dei processi di cambiamento a livello europeo esistono dei finanziamenti per il sostegno all'associazionismo in Italia questo non accade abbiamo relegato tutto ai fondi privati o alle progettualità e in un periodo per esempio di crisi come quello che abbiamo attraversato in cui effettivamente c'è stata una carenza non soltanto di investimento da parte dei privati ma soprattutto ovviamente di realizzazione di progettualità non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo le organizzazioni giovanili che a livello territoriale sono degli strumenti di cambiamento non soltanto appunto economico ma soprattutto sociale hanno appunto avuto difficoltà nel determinare appunto questi anche cambiamenti e processi che a livello nazionale stiamo provando a mettere in campo per cui la risposta è abbiamo sicuramente avviato la strada giusta possiamo fare di più guardando anche a quanto in Europa e appunto già stato messo in campo grazie Maria io chiamo chiamo Ania un ultimo breve intervento siamo purtroppo un po' oltre il tempo avevamo previsto un piccolo break per organizzare anche le breakout room però visto che abbiamo avuto degli interventi molto molto interessanti e sui meccanismi permanenti Maria mi permetto di dire che questo è sicuramente una delle cose più importanti fare delle riunioni fare delle consultazioni è importante per avere meccanismi permanenti ed è proprio su questo che stiamo lavorando con i World Food Forum che siano riconosciuti e che siano istituzionalizzati è assolutamente una condizione sine qua non Ania Can I ask you one last question before we go in the breakout room I will ask you in English so you can hear directly from me You have first hand experience in circular economy in regenerative economy posso chiedere posso chiedere alla regia di non portarci l'audio della traduzione in sala se no mi sento mi sento parlare You have first hand experience but also with the European Youth Forum you guys are working very very closely on circular economy Can you share with us and then we can close on that some good practices and some lessons learned that we can learn from as obvious the states for other organisation other youth movements and for the process of better engaging young people in circular economy the floor is yours Yes thank you for the question a sad circular economy is one of the priorities something that young people have brought as a priority and therefore we took on it there's few examples on how to bring young people to this and in the previous discussions consultations were mentioned often which I believe consultations indeed are important but there's other levels we have to go about it's creating mechanisms where young people can be involved in the creation implementation and evaluation of different policies so that young people not just ask hey what is your opinion what do you think we should do but to actually involve them in the implementation invite them to draft policies invite them to do projects allocate funds where they can on ground in their local realities or on national level or European or even global level do things basically that they implement what they think they are sometimes it's not that we want to share things we want to be part of the action and we want that we are considered as someone that is able to not just talk about things but to also work and react on that so this kind of consultations is just the first point is the first kind of level and then when we have the opinions invite young people to actually do the actions and I think this is what youth organizations are good at and what is the core as well of youth work so to not just have young people as consumers of policies of measures etc but to have young people as creators and that is the best way how to bring young people forward when it comes to the topic of circular economy climate agriculture or any other topics I would say that's the most important thing so to have actions with young people not just ask them things state veramente toccate delle tematiche importanti a partire dall'educazione alimentare ma anche a quella non formale l'importanza delle associazioni l'importanza dell'innovazione e l'importanza di riavvicinare i giovani all'agricoltura ma di dar loro il giusto la giusta retribuzione e le giuste possibilità. Abbiamo parlato di sistemi alimentari di quanto abbiano la necessità di essere rivisti e di essere riformati abbiamo visto un consumo ragionato responsabile, mi piace molto questa parola di consumo ragionato e anche i challenge le difficoltà che i sistemi di distribuzione moderna stanno imponendo soprattutto ai piccoli produttori. Io vorrei ringraziare Patuanelli, il ministro Patuanelli, vorrei ringraziare sicuramente anche Maria Cristina Pisani, Carlo Pietrini, il consigliere Martina ma soprattutto vorrei ringraziare la ministra Dodone che ci ha ospitato quest'oggi e che ha fatto sì che questa riunione possa possa aver preso preso luogo qui alla presidenza del consiglio dei ministri e sono sicuro che continueremo a lavorare in maniera molto vicina, ci sarà il World Food Forum a breve e quindi ripeto e rinvio a tutti voi a partecipare attivamente al World Food Forum e veramente ministra grazie, grazie del vostro supporto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 so many different ways uh opening ceremony of of today's work on my behalf matteo landi thank you very much for being with us and see you in less than two than three minutes you welcome back and thank you very much and sorry for keeping you waiting uh let me give immediately the floor to my colleague marco de giorgi capo di partimento per le politiche giovanile il servizio civile universale he will introduce the breakout room and after his introduction we will open the breakout room for you to join marco the floor is yours grazie matteo buon pomeriggio a tutti solo diciamo poche parole per dare il via ai tre tavoli tecnici che ci porteranno proprio nel vivo dei tre delle tre questioni centrali che hanno toccato che sono state toccate nelle relazioni introduttive avremo un tavolo tecnico sull'educazione alimentare sull'alimentazione di qualità alimentazione intelligente coordinato dal professore luigi corvo che ringrazio e un tavolo tecnico come anticipato la ministra dadone sui temi del riutilizzo del riciclo dei materiali la questione principale della sostenibilità ambientale coordinato da arald fril e infine un tavolo più concentrato diciamo sul tema delle competenze professionali che sarà coordinato dalla consigliera diana boschi in primo luogo permettetemi di dire che per noi la presenza di tanti giovani collegati a questo evento è stata sottolineata anche dall'amico Matteo Landi è per noi un motivo di soddisfazione oltre ai partecipanti di questa piattaforma ci stanno seguendo abbiamo ricevuto messaggi da chi ci segue su facebook su twitter su youtube e c'è anche lo streaming sul portale giovani 20 30 e questa grande partecipazione dei giovani no a cui facevano riferimento i ministri l'onorevole martina prima è un motivo di soddisfazione perché ci permetterà di portare un contributo diretto delle giovani generazioni alle giornate del world food program che si svolgeranno e proprio dall 1 al 5 ottobre come ricordava ricordava prima e Matteo Landi come dipartimento per le politiche giovanili devo dire che noi abbiamo la fortuna di lavorare a stretto contatto con i giovani in contatto diretto appunto con i giovani perché il nostro target spazia le nostre politiche i nostri interventi da 14 fino a 35 anni ogni anno ingaggiamo ben 50 mila operatori del servizio civile quest'anno finalmente la proposta del servizio civile ambientale grazie all'interventi e al protocollo seglato dalla ministra Dadone è diventato una realtà a breve pubblicheremo l'avviso del servizio civile ambientale e poi abbiamo il portale giovani 20 30 che è uno strumento proprio di comunicazione diretta sia con i giovani e sia con le associazioni il ministro ha citato prima la consultazione che abbiamo fatto proprio a luglio di quest'anno sul tema dell'educazione alimentare sul tema del cibo sostenibile e per noi diciamo è stato straordinario avere la risposta di addirittura 5.236 ragazzi che si sono uniti al dibattito su questi temi no ed erano ragazzi ovviamente che hanno dato un diverso diversi tipi di risposte appunto perché sono ragazzi di 15 anni ma anche ragazzi laureati professionisti di 30 35 anni ora cosa è venuto fuori da questa grande consultazione che il dipartimento insieme al CNDG all'agenzia giovani che ringrazio ha messo in campo direi sono emersi dai questionari che abbiamo letto con evidenza almeno tre dati positivi e forse uno negativo diciamo sul quale dobbiamo lavorare sul quale il dipartimento si impegnerà molto il primo dato positivo è che abbiamo registrato una grande sensibilità lo dicevano anche i relatori in apertura di questo forum una grande sensibilità ai temi ambientali dei ragazzi no e questo per noi è un elemento insomma molto positivo proprio perché i ragazzi nelle loro risposte hanno dimostrato di essere consapevoli della forte interconnessione che c'è fra il sistema economico e il sistema ambientale no come diceva prima il presidente anche i vetrini ma anche il ministro Dadone il ministro Martina e così via e hanno capito che i modelli dell'economia circolare sono la chiave per poter garantire appunto questa tanto inneggiata sostenibilità. Secondo dato positivo i ragazzi in queste risposte nelle interlocuzioni che hanno avviato col dipartimento dimostrano di una grande capacità direi una capacità innata di fare rete lo vediamo nelle risposte e quando animano i dibattiti sui social e quindi la capacità di mettere in circolo idee e proposte innovative che secondo me portano un grande valore aggiunto appunto al tema della sostenibilità alimentare. Terzo dato riscontriamo anche una grande motivazione di chi partecipa a questo dibattito, motivazione dettata dal fatto anche che i giovani vedono in queste in questi cambiamenti dei modelli di consumo, dei modelli di produzione anche delle buone opportunità lavorative no? Delle opportunità lavorative che nascono proprio dalla come dire dalla riconversione dei sistemi produttivi proprio in chiave rigenerativa come si diceva in in apertura e questo sarà il tema proprio che sarà al centro del terzo tavolo tecnico coordinato dalla consigliera Voschi. Un dato negativo dicevo, un dato negativo che però ci aspettavamo, ci affronti di questa grande risposta, di questa forte sensibilità verso l'ambiente dei ragazzi e abbiamo riscontrato che diciamo non ci sono delle conoscenze approfondite su questi temi, quando si parla di riconversione dei modelli di consumo, dei modelli di produzione, chilometro zero, prodotti stagionali e così via. Un po' come accade diciamo, ne sono stato sorpreso perché in questo accade anche per il tema dell'ICT, il fatto che i giovani siano tutti, li chiamiamo nativi digitali e siamo sempre sul computer e hanno sempre un tablet in mano, non vuol dire che hanno delle approfondite competenze diciamo digitali che conoscono tutte le opportunità che vengono dal mondo ICT e su questo noi stiamo facendo proprio degli interventi e degli investimenti, ad esempio nel servizio civile digitale, per arricchire sempre di più le digital skill dei giovani. E lo stesso vale anche per questo settore. Quindi come Dipartimento per le politiche giovanili, su appunto mandato della Ministra Dadone, abbiamo deciso di mettere in campo un'importante azione di informazione e di formazione dei giovani su questi temi, no? Su cui abbiamo riscontrato, come dire, il loro interesse e lo faremo in collaborazione nei prossimi mesi con il Ministero dell'Istruzione utilizzando anche la piattaforma che conoscete, immagino Repubblica Scuola, che è una piattaforma proprio che consente ai ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori di confrontarsi e di mettere dei post e di dialogare con esperti del settore, di partecipare a iniziative e riscuotere crediti formativi. Si tratta, per dirle in breve, di invitare, ingaggiare attivamente, no? Prima si parlava di ingaggio attivo, di partecipazione, di chiamare i giovani dentro le istituzioni, di quindi di ingaggiarli attivamente nella lotta agli sprechi alimentari, negli stili di vita più basati sul riuso, sul riutilizzo, tutti i temi che ora tratteremo fra pochi minuti nei tavoli tecnici. Dal PNRR ci arrivano delle grandi opportunità in questa direzione, è inutile che cito tutti i progetti della Missione 2 proprio sulla transizione ecologica, avremo nel prossimo anno un'importante strategia nazionale per l'economia circolare su cui vogliamo ingaggiare moltissimo ai giovani. Per dare a loro una visione, qual è la visione che vogliamo dare ai giovani? Cioè vedere questi cambiamenti, questa revisione dei modelli di consumo e dei modelli di produzione, non tanto come un limite ma come appunto un'opportunità. L'Italia in molti dei temi che tratteremo fra pochi minuti ha già delle buone performance sul riciclo, sul riuso e sul riutilizzo. Allora si tratta, e questa è la sfida delle politiche giovanili, di dotare i giovani di competenze che riguardino proprio la riconversione dei sistemi produttivi in questa chiave che ho detto prima, rigenerativa. Serve di creare figure professionali nuove proprio sui temi della sostenibilità ambientale. In una parola dobbiamo incoraggiare tutti i giovani a cavalcare questa rivoluzione verde e liberare quel potenziale di innovazione che i giovani portano dentro. Ma mi fermo qui, do solo qualche indicazione operativa e poi passiamo ai tavoli e come da programma le sessioni dei tavoli si svolgeranno in parallelo e tratteranno i temi appunto della sostenibilità articolati su questi tre argomenti di cui vi ho parlato, educazione alimentare, riuso, riutilizzo e competenze professionali. E su tutti e tre i temi, come ho detto, l'Italia non è all'anno zero. Ci sono moltissime buone esperienze in corso che vanno valorizzate. Ringrazio sin da adesso gli esperti e i ragazzi che diciamo vorranno dare un contributo in termini di idee e di proposte, ma soprattutto grazie anche a tutti quelli che vorranno animare il dibattito, no? Con domande e spunti di riflessione proprio per creare un'interazione e una comunicazione, come dire, a due vie. Quindi fra pochi minuti vi comparirà, diciamo, sul video una pagina in cui vi chiederanno di essere direzionati a uno dei tre tavoli che avranno appunto come coordinatori il primo, il professore Corvo, il secondo, Harald Friedel e il terzo, Diana Voschi. E poi automaticamente ci vedremo alle 17.10 per le conclusioni e sarete automaticamente reindirizzati, come dire, in assemblea plenaria. e quindi lascio la parola ai moderatori dei tre tavoli e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, grazie veramente Marco. Thank you very much for the introduction that you've given and congratulations again for the remarkable work that you guys are doing. Grazie. So I think Maria we can open the breakout room, please do choice very wisely, be informed that the first room is only in Italian and please be informed that there is no translation, simultanealian translation in the breakout room. So please do choose your breakout room for those that will be floating around me and my colleagues will try to help you and guide you in the breakout room and I'll see you very soon inside the breakout room and enjoy and we'll see you all of you after the breakout room for the plenary and the closing session at 5.10. See you later. Recording stop. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I'm not sure. Aral, can you hear me? So now you are in the main room, so you have to choose which room you want to go and then say join. And if you cannot do it, just tell me which one is your room and I will send you there. Yeah, Aral, you also have to choose a room. Yeah, but sorry, where do I do this? It doesn't pop up. Can you click on, so under more there is breakout rooms. You cannot see breakout rooms. All right. Are you room two? Can you assign me to the English-speaking breakout room, please? The second one. English room, please. I mean English room, please. May you clarify? If this room... This one is in English, the one you requested, Hindu. Okay, Hindu is there. Let's see. I see Davide Pelli, stanza 1. And this is what we do. Okay. Tutti color, everyone that has not been assigned to a room and you can see me in the plenary session, please indicate which one of the three breakout rooms you would like to be addressed or please choose one of the three breakout rooms. You can actively do that. The room is not front of me. Can you choose me as an English one? And someone else was speaking, asking for an English room. We have two English rooms, one about resources from scraps and the other one about ancient and modern knowledge. I mean knowledge. 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 Okay. What's your name again? I can't see you. Montasar Masaud. Okay. Montasser Masswood, room 3 Ok, you will see it now If anyone else is missing, let me know when I can assign you If anyone else is missing, let me know when I can assign you If anyone else is missing, let me know when I can assign you If anyone else is missing, let me know when I can assign you If anyone else is missing, let me know when I can assign you Sì, è la prima Allora, proviamo di nuovo a darti accesso Ecco Dovrebbe apparire adesso Paola, mi senti? Sì, ciao Il professor Di Renzo non riesce ad entrare nella tavola 1 Allora, Di Renzo? Ah, Ernesto, sì, l'ho mandato adesso Sei riuscita? Penso di sì Ok, perfetto Ok, vado nella mia sessione 2 e poi ci vediamo Sì, io prendo quelli che mancano Raccogli quelli che sono ancora in giro L'altra cosa, sul live streaming Immagino si è interrotto Possiamo mettere una cosa che si rientra alle 17.10? O come funziona? È semplicemente interrotto e poi ci sarà uno dopo? No, penso 30 relatori di 10 nazionalità diverse Tre rappresentanti di governo Il ministro degli affari esteri, il ministro dell'agricoltura E come padrona di casa il ministro per le politiche giovanili Un evento che si è organizzato attorno a tre tavoli tematici Che sono stati svolti nel pomeriggio Sono stati coordinati dal capo del Dipartimento Politica e Giovanile Servizio Universale 16 esperti, tra professori universitari Rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali E soprattutto tanti giovani che hanno raccontato le loro esperienze Le loro opinioni La vicepresidente dello EU Youth Forum Il rappresentante della Confederazione Europea dei Sindacati E TUC Giovani Abbiamo anche un membro del Forum Permanente sulle questioni indigene E presidente dell'Associazione di Donne Indigene E abbiamo anche avuto i presidenti di Coldiretti Giovani E Compartigianato Giovani È stata molto intensa, molto ricca la fase del dibattito L'apertura è stata moderata dall'amico e collega Matteo Landi Che ringrazio per il lavoro che ha svolto E direi che adesso ci prestiamo a concludere i nostri lavori In un contesto che è poi quello di trovare le condizioni Per proseguire un dialogo Partito con questa consultazione pubblica Che il ministro Ladone ha voluto lanciare nei mesi scorsi Proprio in vista dell'evento di oggi Una consultazione esclusivamente via web Che ha coinvolto oltre 5.200 tra ragazzi e ragazze Quindi vogliamo continuare a individuare aree di intervento Su cui concentrare azioni concrete di politiche pubbliche E oggi il ministro Ladone ha posto l'accento Insieme al ministro Patuanelli su questi temi Ci siamo confrontati su delicate questioni Relative alla sicurezza alimentare Al coinvolgimento preattivo dei giovani Nei processi decisionali E nelle filiere di produzione e di consumo Io diciamo inizierei questa sessione conclusiva Chiedendo al ministro Ladone se vuole diciamo Dire qualcosa o inveceversa Passiamo direttamente la parola Allora per esigenze di tempi Direi che passiamo direttamente la parola Grazie Io faccio un intervento molto molto rapido Vi ringrazio tutti innanzitutto per aver partecipato a questo evento Che è stato importante in termini di organizzazione Perché come dicevamo stamattina è partita proprio dall'esigenza Tramite una consultazione di provare a coinvolgere i ragazzi Nei processi decisionali L'idea è quella proprio di appoggiare poi la grande consultazione Che ci sarà con il World Food Forum E provare a coinvolgere maggiormente i giovani in tutto ciò Che riguarda le politiche che attengono non solo come dicevamo stamattina Nello specifico alle norme di cui sono destinatari Quindi non soltanto le politiche giovanili ma più in generale A tutte le politiche pubbliche che inevitabilmente hanno degli effetti sulle nuove generazioni Quindi su questo fronte riconosco anche l'appello che in parte è stato lanciato stamattina Al tavolo istituzionale di presentazione Ad evitare di far sì che le consultazioni siano solo sporadiche Ma diventino effettivamente un momento strutturale Che porti non solo ad una fase di ascolto Ma ad una fase poi proprio di istituzione Di un dialogo che permetta al decisore politico di riuscire a ricalibrare Le proprie posizioni oppure a migliorare le norme che sono state messe in atto Noi a questo proposito come Ministero abbiamo anche istituito un comitato Che si occupa nello specifico della valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche Sulle nuove generazioni proprio perché riteniamo che ogni normativa Che mette in atto il Governo debba avere una valutazione esposta In termini di utilità per i ragazzi Poi con dei focus particolari anche rispetto alle varie fasce d'età Perché come sappiamo le fasce tra i 14 e i 25 hanno necessità Che sono differenti rispetto alle fasce che vanno dai 25 fino ai 35 anni Che è la fasce che attualmente ricopre in termini di politiche giovanili questo Ministero Rispetto alle potenzialità in termini di ricambio generazionale in agricoltura In termini di sostenibilità rispetto alle tematiche che sono state affrontate Nei tre tavoli che oggi si sono tenuti Vorrei dire che abbiamo dato impulso come Ministero Insieme al Ministro della Transizione Digitale Colau la creazione di hub di innovativi Che sui territori riescano a coniugare l'esigenza da parte dei ragazzi Di sperimentare e di provare ad avvicinarsi In questo caso specifico oggi parliamo di tema di sostenibilità legato al cibo Quindi alle tematiche della sostenibilità agroalimentare In altri territori lo caleremo su esigenze di altro tipo Per esempio quelle digitali Oppure le materie STEM Per le donne di cui abbiamo una carenza come paese Per provare proprio a creare degli incubatori Sui territori che permettano di sia avvicinarsi All'ambito delle competenze professionali Che dall'altro lato provare a formare e certificare delle competenze all'interno di queste hub Per riuscire poi ad avvicinarsi alla necessità di riconoscerle le competenze Perché molto spesso si è detto le competenze I ragazzi a volte o le hanno o le riescono a sviluppare Ma non sono spesso certificate Abbiamo e stiamo lavorando in questo momento In particolare con il Ministero della Transizione Ecologica Ad un servizio civile che sia ambientale Quindi con un focus specifico Su tutta quella che è la Green Economy I lavori green Provando anche a mettere in atto La certificazione delle competenze dei ragazzi Che parteciperanno a questo tipo di progettualità Così abbiamo fatto per il servizio civile digitale Per far sì che i ragazzi riescano anche qui Sia ad acquisire nuove competenze Che a vederse le certificate Ma essere anche un po' i traghettatori Delle competenze verso tutto il paese Perché sappiamo poi che c'è una fascia di età Che su questo fronte ha bisogno di supporto In particolare in termini di raffronto Con gli uffici pubblici E da ultimo rispetto all'educazione alimentare Non aggiungo molto rispetto A quanto è stato detto stamattina Dal Ministro Patuonelli Anche rispetto ad un lavoro ulteriore In termini di formazione di cultura Verso l'attenzione all'educazione alimentare Che si sta portando avanti all'interno delle scuole Come Ministero delle politiche giovanili Stiamo lavorando anche qui sul fronte del servizio civile Ad un servizio civile sportivo Che porti a far sì che lo sport venga visto In questo specifico frangente Come un aiuto rispetto alla promozione Dello stile di vita sano Provando ad avvicinare i giovani Con qualcosa che è per loro di maggiore interesse Che è proprio il tema dello sport Da ultimo oggi ricordo prima di cedere la parola Al collega Di Maio Che oggi la von der Leyen ha dichiarato Il 2022 come l'anno europeo dei giovani Io penso che questa sia una grande occasione Una grande spinta per riportare All'attenzione di tutte le fasce di età All'attenzione rispetto ai giovani Sotto più fronti Sia l'attenzione al dibattito Su quella che può essere La conferenza sul futuro dell'Europa Che è un tema molto attuale Che è il tema che abbiamo sollevato oggi Ma più in generale Un'attenzione in termini di Resa alle nuove generazioni Io credo che troppo spesso negli anni Si sia un po' perso di vista Quanto i giovani abbiano dato Quanto invece abbiano necessità Di poter prendere parte Come abbiamo più volte ripetuto Ai processi decisionali Potersi sedere a tavoli come questo Che io spero siano soltanto uno Di quelli che avvieremo Per poter collaborare Ad avere non solo un'Europa Ma anche un'Italia Molto diversa per loro Grazie 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 Ministro Direi che gli spunti di oggi Sono stati veramente Tanti Tutti interessanti E vorrei Consentirmi una citazione La teoria degli alimenti È di grande importanza Etica e politica I cibi si trasformano in sangue Il sangue in cuore e cervello In pensieri e sentimenti L'alimento umano Il fondamento della cultura E del sentimento Questa è una frase Non recente Risale alla seconda metà Dell'Ottocento Però mi sembra un modo Per un po' tirare le fila Dei temi che abbiamo Abbiamo discusso oggi Per evidenziare anche L'ampiezza All'importanza Di una sfida Che è straordinaria Nei prossimi anni Una sfida in cui Il ruolo dell'Italia Nelle sedi europee e internazionali È fondamentale In tutte le sedi In cui il multilateralismo Può realizzare degli obiettivi Appunto straordinari E in questa diciamo Prospettiva Prego il Ministro degli Esteri Di voler Prendere la parola Per raccontarci un po' La prospettiva Della Farnesina E quanto La Farnesina sta facendo In questi ultimi tempi Questo è un anno Straduramente ricco In cui l'Italia è veramente Al centro dell'attenzione del mondo Allora grazie Al Dottor Panebianco Saluto e ringrazio La Ministra Fabiana Dadone Per l'invito Saluto la Presidente Pisani Del Consiglio Nazionale Giovani Voglio salutare Lo vedo collegato Il Vice Direttore della FAO Maurizio Martina Che ringrazio sempre Per il lavoro Che abbiamo fatto Insieme Durante Soprattutto L'ultimo anno Per quanto riguarda La sicurezza alimentare I relatori Tutti i giovani Che sono collegati In questo momento Sono lieto Di poter intervenire Su questi temi Perché sono temi Al centro del dibattito Internazionale E che vedono sempre Nella loro declinazione Un momento Di coinvolgimento Dei giovani Che viene considerato Sempre più Cruciale In quanto Tutto quello Che noi stiamo portando avanti In questo momento Ai tavoli internazionali Sono processi Che riguardano I prossimi Trent'anni E non possiamo Pensare E pianificarli Senza il contributo Di quelle generazioni Che li vivranno Col massimo entusiasmo Lo speriamo Il nostro Preciso dovere In questo momento È coinvolgere Giovani generazioni Nel ripensare Sia i modi Di produrre Che di consumare Gli alimenti Al fine Di raggiungere Un modello Sostenibile Che possa Definire soluzioni E strategie Di economia Circolare Che consentano Di conciliare Crescete economiche E salvaguardia ambientale Come diceva lei Dottor Panebianco È un anno Molto importante Per l'Italia Intenso Dal punto di vista Delle opportunità Multilaterali Prima di tutto L'Italia Ha una sua Importante Posizione Rispetto alla sicurezza Alimentare Perché Ospita Le agenzie Principali Delle Nazioni Unite Nel Polo di Roma Che riguardano Appunto Sia la sicurezza Alimentare Insomma L'FIO E il World Full Program Sono sostanzialmente Il fiorallocchiello Dell'ONU Noi siamo onorati Di averli qui In Italia Di collaborare Continuamente Con loro Questo ci ha permesso Ad esempio Insieme All'AFAO E al PAM Di poter organizzare Il Pre-Food System Summit Che si è tenuto qui Dal 19 al 21 luglio E che ha Visto Un'ampia Partecipazione E coinvolgimento Dei giovani Nell'obiettivo Di lavorare Insieme A quelli Che sono i target Dell'agenda 20-30 Delle Nazioni Unite In particolare Sulla sicurezza alimentare Rispetto Del pianeta Benessere Dei cittadini Occupazione Sono gli obiettivi Che ci diamo A tutti i tavoli Internazionali Per armonizzare Quelli che sono Attualmente I fattori cruciali Delle nostre economie Puntando Su energie rinnovabili In particolare Le due transizioni I più importanti Che sono La transizione ecologica La transizione digitale Che sono al centro Di questo nuovo corso Anche post pandemia L'Italia In quest'anno Cruciale È protagonista Dei principali Appuntamenti Che scandiscono L'agenda multilaterale Siamo presidenti Del G20 Siamo co-presidenti Della COP26 E abbiamo In ognuno Di questi casi Lo dimostra anche Questo evento Di oggi Cercato sempre Di coinvolgere La comunità Dei giovani Dei paesi Del G20 Di tutti i paesi Che aderiscono A COP E in quest'anno A COP26 Per costruire Dei percorsi Condivisi Con le giovani Generazioni Come sapete Il motto Del G20 E della presidenza italiana Del G20 È People Planet Prosperity E ci stiamo Prefiggendo L'obiettivo Di promuovere Una risposta Coordinata E solidale All'emergenza Pandemica Di favorire Una ripresa Sostenibile Inclusiva E resiliente A riguardo Al G20 Di Matera Che è stato Il G20 Dei ministri Degli esteri E dello sviluppo Abbiamo Tenuto Un'importante Riunione Che ha raggiunto Degli obiettivi Molto ambiziosi Delle 20 economie Principali economie Del mondo Insieme Alla galassia Onusiana E a tutte le E anche insieme All'Unione Europea Per quanto riguarda Non solo La sicurezza alimentare Ma anche interventi Per un'istruzione Qualificata Investimenti A sostegno Dell'imprenditoria Giovanile Nelle aree Rurali Più fragili Del pianeta In seno Al G20 Si è rivelata Coerente Con il messaggio Che gli stessi Giovani hanno lanciato Abbiamo organizzato Il vertice Youth 20 E poi Con la copresidenza Della COP26 Dal 28 Al 30 Settembre Accoglieremo A Milano Oltre 400 Giovani Da tutto il mondo Per l'evento Youth for Climate Driving the Ambition E in questa occasione I giovani Potranno confrontarsi Sulle loro istanze Con i ministri Che porteranno avanti Il negoziato A COP26 A Glasgow Qualche settimana dopo Infine Prima la citava La ministra Dadone La conferenza Sul futuro Dell'Europa Io credo Che possiamo fare Un grande lavoro Anche col consiglio Nazionale dei giovani Perché la conferenza Sul futuro Dell'Europa In questo momento Tutti i ministri Degli esteri europei Convengono sul fatto Che è un grande Strumento Per le riforme Dei sistemi Decisionali europei Ma anche Della costruzione Per esempio Del meccanismo Di una salute europea Che abbiamo visto Non c'era Durante la pandemia Abbiamo pagato Questa mancanza Di coordinamento Soprattutto nei primi mesi Possiamo fare Un grande lavoro Perché Ha un grande potenziale Questa conferenza Ma è poco conosciuta È sostanzialmente Un meccanismo Di democrazia partecipata La Commissione europea Ha costruito Una piattaforma Dove stanno approdando Le proposte E l'Italia È in prima fila Per organizzare Una serie di iniziative Un'iniziativa Che organizzeremo Che ho voluto Che abbiamo voluto Come ministri degli esteri È il forum Dei giovani Unione europea Balcani Perché Negli stessi giorni In cui si determinava La fine della presenza Di UK All'interno Dell'Unione europea Io ero in visita Nei balcani In quei giorni Era la prima volta Da ministro degli esteri In quei paesi Ho avuto l'opportunità Di incontrare Tantissimi giovani Di quei paesi Che sognavano Per il loro futuro Di essere cittadini europei Quelle sono generazioni Che hanno dentro Una fiamma Un fuoco Dell'europeo Che probabilmente Anche noi Abbiamo invece Visto Affievolire A causa del fatto Che nasciamo già Europei E diamo per scontato Questa cittadinanza Cosa che altri giovani A poche Centinaia di chilometri Dai confini italiani Stanno ancora sognando E quindi vogliamo dare Un contributo Alla conferenza Sul futuro dell'Europa Coinvolgendo I giovani Con questa conferenza UE-Balcani Che organizzeremo Noi come Italia Con tutti i paesi europei Andando alla conclusione Non voglio essere Non voglio dilungarmi A dicembre C'è l'appuntamento Tradizionale Con i Med Dialogues Che grazie Al lavoro Fatto dalla Farnesina Negli ultimi anni È diventato il principale forum Foro di dialogo Nel Mediterraneo Tra tutti i paesi Del grande Mediterraneo Allargato Qui di solito A dicembre Adesso l'anno scorso L'abbiamo andato a fare In videoconferenza Ma quest'anno Torna in presenza Nella sua gran parte Sono in Italia A Roma In quei giorni I ministri degli esteri Di tutti i paesi Del Mediterraneo Allargato Molti capi di Stato E si discute Delle grandi sfide Che vedono sempre più Il Mediterraneo Come il centro Del dialogo Sui grandi beni comuni Oggi il Mediterraneo È in gran parte Un'area in cui Ci sono crisi Che hanno costruito Una condizione Lose-lose Per tutti Noi stiamo lavorando Anche con Un position paper Che abbiamo adottato Come ministero degli esteri Italiano Ad un progetto Per un utilizzo Positivo E condiviso Dei beni comuni Del Mediterraneo E questo Si cala Ovviamente In uno You Forum Che organizzeremo In seno A questo evento Voglio andare Veramente alla conclusione Con poche parole Sul PNRR In questi giorni Sia io che la ministra D'Adone Ma anche col ministro Giovannini Abbiamo partecipato A un'iniziativa Che si è tenuta La LUIS Con Promossa Dall'organizzazione CEO for Life Che ha costruito Delle commissioni Parallele Di giovani E manager Che lavoreranno A proporre Al governo italiano Una serie di progetti Per l'execution Del piano nazionale Di ripresa e resilienza Credo che sia un lavoro Molto importante Giovani di vent'anni Tra i venti Anche meno O poco più Che lavorano Con i grandi Manager italiani Delle grandi società Sia partecipate Pubbliche Che private A progetti Per l'execution Del piano nazionale Di ripresa e resilienza Credo sia fondamentale Perché noi stiamo Amministrando una quantità Di risorse Che è superiore A qualsiasi Altra quantità Che l'Italia Abba amministrato In questi anni Dal dopoguerra Ad oggi In tre anni Dobbiamo andare A spendere Oltre 230 miliardi Di euro I primi 25 miliardi Sono arrivati A fine luglio E prima noi Con 25 miliardi Facevamo la manovra Di bilancio Di fine anno Adesso rappresentano Un acconto Di un progetto Molto più ampio E credo che i giovani Saranno fondamentali Nella pianificazione Della spesa Di questi fondi Che sicuramente Di cui loro Vedranno i risultati E le giovani generazioni Vedranno i risultati A Sorrento Ad ottobre Si terrà La ministeriale G20 Del commercio Dove si discuterà Della riforma Dell'organizzazione mondiale Del commercio Ma abbiamo organizzato Un side event Che si chiama G20 Innovation League Che è un'occasione In cui ospiteremo 100 giovani Startupper Da I 20 paesi Del G20 E ospiteremo I principali fondi Di investimento Di venture capital Dei 20 paesi E li faremo E li faremo discutere In un evento Di sfide Che gli startupper Che saranno sottoposte Agli startupper Per innovazioni Nelle principali Questioni Dell'agenda 2030 Quindi salute Climate change Sostenibilità E i 20 progetti Ritenuti Particolarmente validi Da i venture capitalists Saranno finanziati E questo è un obiettivo Che ci siamo dati Per cominciare Non solo ad unire E a far coordinare Le nostre economie Dal punto di vista Dei leader E delle cariche politiche E dell'indirizzo politico Ma anche Cercare di unire La comunità Dell'innovazione Delle 20 economie Più importanti Al mondo Costruendo Dei ponti Sulle grandi sfide Internazionali Dell'agenda 2030 Io Il messaggio chiaro Che vorrei trasmettere Che In questo momento Noi abbiamo bisogno Di una visione A lungo termine Che spesso Scarseggia Nella politica Ma Che Quando Ci si siede Ai tavoli internazionali Diventa L'unico argomento Di discussione Nel multilateralismo Non esiste niente Probabilmente A breve termine Anche il G20 Straordinario Sull'Afghanistan Che stiamo pianificando In questo momento Sotto la presidenza italiana Sta richiedendo Un importante Lavoro di preparazione Probabilmente Ci sarà prima Un G20 Dei ministri degli esteri E poi un G20 Dei leader Sull'Afghanistan Per preparare Bene Il lavoro E pianificare Nei prossimi Dieci anni L'aiuto umanitario E l'aiuto Ai paesi confinanti Dal punto di vista Gli investimenti Gli investimenti Della gestione Dell'emergenza Perché nulla Può essere gestito In poco tempo Quando guardiamo A visioni di lungo termine Guardiamo Alla classe dirigente Dell'oggi Ma in particolare Del domani Che sono Le generazioni Coinvolte in questo evento Quindi io spero Di poter vedere Sempre di più Non solo Side events Ma Dibattiti Cruciali Nell'ambito Di queste sedi Di questi fora Multilaterali Con protagonisti Dei giovani generazioni Perché poi Quello che noi stiamo Andando a decidere In questo momento Avrà un impatto Soprattutto sulla loro Qualità della vita Sostenibilità Cambiamenti climatici Sicurezza Sicurezza alimentare In particolare Sono al centro Del dibattito E Grazie alle nuove Tecnologie Ma anche alle innovazioni Che non sono Necessariamente Tecnologiche Ma anche di processo Potremo migliorare La qualità della vita Di tante aree del mondo Soprattutto le zone rurali Più fragili Colpite anche Dalla pandemia Lo ricordavamo Al Food System Summit Dopo questa pandemia Abbiamo avuto Oltre 100 milioni Di cittadini Del mondo In più Che soffrono In questo momento Di insicurezza alimentare Solo per effetto Della pandemia Stiamo parlando Di numeri Sconvolgenti Che richiedono Un'iniziativa Insieme Un'iniziativa Dei governi Delle economie Più importanti Del mondo E credo che il G20 Sia un formato Ampiamente inclusivo Proprio per raggiungere Questi obiettivi Vi ringrazio ancora E vi auguro Buon lavoro E sicuramente E sicuramente L'incontro di oggi Avrà dei seguiti Che ci consentiranno Consentiranno A noi Ad altri Di rincontrarci E di continuare A lavorare insieme Grazie Grazie al ministro Ciò che ha Ciò che ha riferito Da ultimo A proposito Dell'insicurezza alimentare Mi sembra Che possa essere Un tema Questo In cui chiamare In causa Maurizio Martina Consigliere Martina Consigliere Speciale Per ringraziare Di cuore Del grande lavoro Di partenariato Di cooperazione Che stiamo facendo E per il lavoro Che in particolare Quest'anno Il ministero degli esteri Dentro il quadro strategico Del G20 Che è stato giustamente Richiamato dal ministro Sta facendo Sono state citate Una serie di occasioni Di appuntamenti E io vorrei Che si valorizzassero Veramente come Meritano Questi passaggi In chiave Proprio Politico Diplomatica Perché L'Italia Sta svolgendo Fin in fondo Un ruolo Essenziale Di ponte Di dialogo Di cooperazione Massima E Io lo vedo In particolare Dall'ottica Di chi Qui dentro Segue Nel multilateralismo La grande sfida Alimentare globale E tutti i temi Che abbiamo Anche toccato Nella sessione Di questo pomeriggio Il grande tema Dei diritti Legati Alla sicurezza alimentare In un tempo Di trasformazioni Empocali Come queste E voglio Qui davvero Riconoscere il protagonismo Del governo Italiano L'iniziativa Di tutto il governo E della Farnesina Del ministro Degli esteri A cogliere Anche la specificità Di una Diplomazia Alimentare Che è un tratto Che è un tratto fondamentale Della diplomazia Italiana Che mi sia consentito Non è per tutti Non tutti i paesi Hanno Per mille ragioni Non lo si dice Per arroganza O per supponenza Ma è andato di fatto Che attraverso Un lavoro Di cooperazione E di dialogo Di confronto E di diplomazia Attorno ai temi Del cibo Della sicurezza alimentare Del diritto Al cibo L'Italia In particolare Sviluppa Fino in fondo La sua peculiare Caratteristica Di essere In fondo In fondo Un paese Cerniera Un paese Ponte Un paese Capace Appunto Di assumersi Delle responsabilità Sui quadri Globali Complessi Pur essendo Un paese Di medie dimensioni Lo abbiamo già detto Diverse volte Anche con Il ministro Di Maio Io non so se questo È il soft power O l'hard power Io so che è Un modo intelligente Per esercitare Un ruolo Una funzione In questo tempo Cogliendo fino in fondo Quello che veniva detto Prima Cioè il passaggio storico Che abbiamo davanti E la necessità Di progettare E di pensare A una prospettiva Di medio-lungo periodo Non è solo Del qui e oggi Del qui e oggi Poi abbiamo Anche il qui e oggi Le emergenze I grandi drammi Noi stiamo lavorando Con Con l'Italia Su tutti i fronti Più problematici Anche qui Ringrazio l'Italia Per lo sforzo Che sta facendo Anche in chiave Multilaterale Su un quadrante Molto complesso Come quello Afgano Credo che Da questo punto Di vista Abbiamo davanti L'occasione Di sviluppare Ancora di più Questa prospettiva E questo ruolo Dell'Italia Lavorando Sulla diplomazia Alimentare E è molto importante Poter dire Anche in questa occasione Che gran parte Delle sfide Che abbiamo generato Anche con gli appuntamenti Che sono stati Giustamente Prima richiamati E qui mi riferisco In particolare Al prevertice Sui sistemi alimentari Che l'Italia Con la FAO Fortemente voluto A Roma Proprio A luglio Ecco Gran parte Delle responsabilità Dell'esecutività Di questi vertici Nel giorno Per giorno Ricadrà Proprio Sulla nostra Partnership Sulla nostra Collaborazione Ora vedremo Nei prossimi Passaggi Del Summit finale Che si terrà Proprio Tra qualche giorno A New York Quali saranno Gli esiti Ma io penso Che Caro Ministro Di Maio Cara Ministra Dadone Dobbiamo prepararci Insieme Ad assolvere Fin in fondo A una funzione Proprio di gestione Dei deliberati Di questi Summit Mai come oggi È fondamentale Passare Dalle parole Ai fatti E riuscire Anche ad essere Operativi Nel giorno Per giorno Lavorare Sull'execution Lavorare Sull'emergenza Ma anche Sulle prospettive Di medio periodo Di sviluppo Agricolo Alimentare Incrociandolo Con la grande Questione Ambientale Ecco Ci sono tutti Questi ingredienti E io credo Che da questo Punto di vista C'è veramente Un campo Di opportunità Straordinario Per tanti Ragazzi E tante Ragazze Che si fanno Un'idea Del mondo Del mondo Della cittadinanza Di se stessi Delle loro Professionalità Delle vocazioni Che hanno Delle ambizioni Che vogliono Provare a cogliere Quando incontrano Queste opportunità Tutte le volte Che noi abbiamo L'occasione Di ragionare Ad esempio Delle prospettive Alimentari Globali Lotta La fame Nel mondo La grande sfida Della sostenibilità La geopolitica Del cibo I grandi temi Che attraversano Queste questioni Io vedo Sempre un sacco Di giovani Pronti Non solo Ad affascinarsi A questi temi Pronti a formarsi Per essere Domani E magari Anche oggi Protagonisti Di queste sfide C'è una cosa Che mi lascia Tutta l'esperienza Di questi anni Il fatto Che quando Noi solleviamo Questi temi E li offriamo Le giovani generazioni Come percorsi Di cittadinanza Troviamo Sempre Grandissime Disponibilità E fatemi dire Una cosa Dall'esperienza Qui In FAO Vi dico Senza ombra Di dubbio Che Chi poi Esercita Una funzione Anche Professionale Da una passione Ha una marcia In più E lo si vede Anche dentro qui Ragazzi Ragazzi Tanti italiani Per fortuna Ma non solo Da ovunque Arrivano qui E hanno competenze Professionalità Passioni Che si incrociano E io quando li vedo Rimango Ammirato Dai loro Percorsi Di storie così Ce ne sono tante E che l'Italia Abbia deciso Di usare Il G20 Intelligentemente Anche per fare Questo lavoro A 360 gradi A me pare Veramente Una gran Bella cosa Utile E bella E quindi Grazie di cuore Anche per questa occasione Grazie Consiglio Martina Beh Insomma L'accento Sulla gestione Dei seguiti Si è riproposto Nel senso Che è importante Sicuramente Organizzare eventi Come questo Ma è anche Importante Poi creare Le condizioni Affinché Da questi Eventi Nasca qualcosa Di strutturato Di durevole E in questo senso Mi pare Che il ruolo Del Consiglio Nazionale Dei giovani Possa essere Possa essere Strategico Presidente A lei la parola Grazie Sì Non solo L'ho detto Più volte Stamattina E l'importanza Di questo evento Nasce dalla modalità Anche con la quale Poi si è arrivata Alla realizzazione Di questa Di questa giornata Perché è importante Non soltanto Dal seguito Ma anche arrivare Ad eventi come questi In cui i decisori Politici Si confrontano Con le giovani Generazioni Attraverso processi Partecipati E ne approfitto Anche per Riprendere Quello che diceva Il Ministro Di Maio Rispetto Alla Cittadinanza Che riprende Un po' anche Il tema di stamattina Sulla partecipazione Sul lavoro Che con il Ministro Dadone Abbiamo fatto E su quanto Questa generazione Senza di essere Non soltanto Appunto Cittadino Italiano Ma anche Cittadino europeo E del mondo Basti pensare A quanto accaduto In questi anni Il Ministro Lo ricordava Se pensiamo Anche al voto Sulla Brexit Se fosse stato Per le giovani Generazioni Oggi la Gran Bretagna Sarebbe ancora Parte dell'Unione Europea E in questi anni Ministro Noi abbiamo Lavorato tantissimo Nell'ambito Della cooperazione Dell'euro Mediterraneo Ma non soltanto Vedo anche qui Il suo capo di gabinetto Abbiamo avuto Abbiamo avuto occasione Anche nell'ambito Delle Nazioni Unite Di favorire E di definire Dei processi Di cooperazione Giovanile Che ci hanno portato Grazie soprattutto Al contributo italiano E grazie anche Al lavoro Della Farnesina A sviluppare Dei processi Di dialogo Che hanno definito Dei percorsi Di partecipazione Permanente Penso ad esempio Il Ministro Il lavoro Che noi abbiamo Fatto Nell'euro Mediterraneo Oggi L'Italia Riveste Un ruolo Anche se vogliamo Per la posizione Geopolitica Che ha Fondamentale Anche e soprattutto In questi temi Quali quelli Dell'economia Circolare Abbiamo una posizione Che ci permette Di essere anche Da traino Nell'interlocuzione Con i paesi Dell'Africa Del nord Ma soprattutto Anche di Approfittare Di questi momenti Anche di presidenza Ne parlavamo anche Con il suo ministero Qualche giorno fa L'Italia Oltre agli appuntamenti Che le ha ricordato Anche la presidenza Del comitato Dei ministri Del consiglio D'Europa Che partirà A novembre Lei ha parlato Della conferenza Del futuro Dell'Europa In un'ottica Di cui pochi parlano Perché quella conferenza Nasce proprio Come un processo Partecipato Rivolto alla società Civile Rivolto alle giovani Generazioni All'idea Che i giovani Hanno Dell'Europa Per questo Io aggiungo Chiudo velocemente Soltanto per dire Che questa giornata Ci dimostra Quanto le giovani Generazioni Si è ascoltate E lo dicevamo Col ministro Stamattina Attraverso anche Dei percorsi Strutturati Che quindi Non siano Lasciati Semplicemente Alla sensibilità Come in questo Caso Dell'autorità Politica Ma che possano Essere appunto Resi protagonisti Attraverso dei Percorsi permanenti Anche legislativi Europea Eropea Eropea Anche in tema Di transizione Ecologica Di sostenibilità Ambientale È un lavoro Condiviso Che abbiamo fatto Insieme agli altri Consigli appunto D'Europa E che sicuramente Possiamo strutturare Portando soprattutto Ai tavoli Appunto Non soltanto Del ministero Delle politiche Giovanili Ma anche Al tavolo Della Farnesina Per appunto Come diceva L'onorevole Martina Dare seguito A questo lavoro Di ascolto E di partecipazione Che insieme Al ministro D'Adone Abbiamo messo in campo In questi In questi mesi Grazie Grazie Presidente Questa serie Sarà sicuramente Una cassa di Isonanza Di queste Di questo messaggio L'evento Come sapete È trasmesso In streaming Sul canale YouTube Del World Forum E condiviso Sui canali Della FAO Del MAICI Del MIPAF Del Consiglio Nazionale Giovani Dell'ANG Della piattaforma Giovani Ventitrenta Del Dipartimento Politiche Giovanili Il Servizio Civile Universale Il tema Che volevo Riprendere È il tema Afghanistan Cioè È risuonato Recentemente Questo 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 aspetto Importante È un anno Complicato Per tante ragioni E Questa crisi Drammatica Che si è aperta In Afghanistan Sicuramente Complica Complica Il quadro Generale E probabilmente Nei temi Che stiamo riscutendo Oggi Che sono quelli Relativi Al coinvolgimento Dei giovani Nei processi Decisionali Al ruolo Delle donne Al diritto Al cibo Al consumo All'azione Nelle filiere Di produzione Probabilmente Sollecita Anche alla luce Di ciò Che diceva Il ministro Di Maio Poco fa Rispetto Al G20 Strasilano Sull'Afghanistan Una Una Riflessione Ecco Volevo Magari Chiedere Al ministro D'Adona Al ministro Di Maio E anche A lei Presidente Su questo Quali possono Essere Dal vostro Punto di Vista Degli Scenari Diciamo Di azione Il ministro Di Maio Sicuramente Da questo Grazie Velocemente Noi dobbiamo Partire Prima di tutto Da un Secondo me Una cosa Che A qualcuno È sfuggita Cioè Ci sono Giovani Generazioni In Afghanistan Che hanno Oggi Vent'anni E non hanno Mai conosciuto I talebani Al governo Cioè Sono Generazioni Che sono Cresciute In un'era In cui Da 0% Di percorsi Di istruzione Per le donne Siamo passati A 98% Sono Giovani Che hanno Visto I programmi Della cooperazione Allo sviluppo L'Unione Europea È il primo Fornitore Di progetti Il primo Finanziatore Di progetti Per la cooperazione Allo sviluppo In Afghanistan Quindi Io Parto sempre Dal presupposto Che anche I giovani Afghani Che sono Arrivati Qui in Italia L'Italia è stato Il primo paese Dell'Unione Europea Per evacuazioni Civili Afghane Durante Questa Crisi Sono Persone Che sono Cresciute I più Giovani In un'epoca Nella quale Insieme Abbiamo provato A costruire Una società civile Con più diritti Una società civile In cui Donne e uomini Erano alla pari In cui le ragazze Potevano studiare In cui le ragazze Avevano gli stessi diritti Dei ragazzi E adesso Se ne stiamo discutendo Con tale forza È perché L'implosione Dell'esercito afghano E l'implosione Delle istituzioni afghane Che ci deve In qualche modo Interrogare Duramente Su lezioni Da apprendere Come occidente Ci stiamo Preoccupando Di questi temi Perché si rischia Di tornare indietro Di vent'anni Quello che possiamo dire Noi come Italia Che siamo Orgogliosi Dei nostri Rettori Delle università Dei nostri sindaci Dei nostri Presidenti di regione Delle nostre associazioni Della società civile Italiana Perché Dal primo giorno In cui è scoppiata La crisi afghana Noi abbiamo ricevuto Telefonate E richieste Di disponibilità Da parte Di tutti Gli enti italiani Sia per aiutare I più giovani Sia per aiutare Le donne Sia per aiutare I meno giovani Sia per aiutare Gli uomini afghani Che sono arrivati Qui in Italia A livello europeo Stiamo cercando Di coordinare Quest'azione Perché Perché Molti Dei ragazzi Soprattutto L'altro giorno È stata premiata Col premio Agnes Una giovanissima giornalista Afghana Di vent'anni Che adesso È qui in Italia E che abbiamo evacuato Noi grazie Alla difesa Al corpo diplomatico Noi stiamo cercando Di coordinare Un'azione europea Non solo per dare Un futuro A queste persone Ma anche per consentire A tutti coloro Che vogliono lasciare L'Afghanistan In questo momento Di poterlo fare Attraverso I paesi di Mitrofi Allo stesso tempo Stiamo parlando Di un paese Che ha oltre 35 milioni Di abitanti E che quindi Richiede un aiuto Umanitario In loco Questo io Lo sto dicendo Lo sto sostenendo In tutti I fora multilaterali Perché Noi dobbiamo stare Attentissimi In questa fase All'idea Che è finito Il piano di evacuazioni È finito Quindi Il clamore mediatico Sull'Afghanistan Già non se ne parla più Come una settimana fa Il problema Si è risolto Anzi I problemi iniziano adesso Noi abbiamo Come Italia Il piano Italiano Per il popolo afghano Che stiamo sviluppando Come Farnesina Con tutti Società civile E istituzioni Locali e nazionali Che prevede Dei punti Importanti Sull'aiuto umanitario Ma prevede anche Punti importanti Sulla lotta al terrorismo Che è un grandissimo rischio In questo momento Poi Lotto al terrorismo Passa anche molto Per quello di cui stiamo parlando oggi Per la sicurezza alimentare Cioè I cambiamenti climatici Stanno impoverendo Intere aree del Sahel Ragazzi Che non hanno più niente Si lanciano Tra le mani Tra le braccia Delle organizzazioni terroristiche Pur di avere Un introito Noi abbiamo Interi paesi del Sahel Che hanno La maggior parte Dei villaggi In Niger Mali Burkina Faso Sono nelle mani Delle organizzazioni terroristiche Non sono sotto il controllo Dello Stato centrale E tutti questi paesi Ci chiedono supporto militare Ma principalmente Ci chiedono Un progetto Per creare Crescita sociale Economica E quindi Consentire a quelle persone Di uscire Alla spirale Delle organizzazioni terroristiche Dico tutto questo Perché Tutto questo lavoro Ovviamente Non possiamo immaginare Di farlo da solo Come Italia Nessuno È in grado Da solo Come Stato Come Nazione Di poter affrontare Sfide globali Di questa gravità Credo Allo stesso tempo Che quando Noi immaginiamo Il foro multilaterale In cui si discute Di questi temi Non solo c'è un dibattito Sui seguiti Che c'è sempre Perché Siamo bravissimi Non sempre si raggiungono Le conclusioni Ma diciamo che Nella maggior parte Dei casi Raggiungiamo Delle splendide conclusioni E poi Il punto cruciale Sono i seguiti E i seguiti Richiedono Un impegno Costante Di tutte le parti Che erano al tavolo Ma l'altra cosa Che ci dobbiamo Sempre chiedere È quanto è inclusivo Un formato Quanto è rappresentativo Perché ci sono Le istituzioni massime Di un paese Ma ci devono essere Quei fora Collaterali Che consentono A La parte Della società civile In questo momento Stiamo parlando Dei giovani Di poter dare Il loro contributo Anche perché Essendo Fora Di mediazione Servono Tutte le energie Sane Dei paesi O delle forze Coinvolte Per raggiungerla E non è semplice In un formato Come quello Del G20 Come sapete Dove non ci sono Solo paesi Alleati Ci sono forze Tra cui in questo momento Ci sono anche Tensioni geopolitiche Ma su casi Specifici Dobbiamo Raggiungere Il massimo Chiudo con Un ultimo tema Che è quello Dello sport E dei giovani Afghani A tanti giovani Afghani In questo momento E soprattutto A sportive Donne sportive Afghane Il nuovo governo Transitorio Ad interim Sta negando Il diritto Allo sport Lo sport è uno strumento A livello Diplomatico Clamoroso Unisce Il mondo E l'abbiamo visto Anche Quest'estate Con i grandi successi Dell'Italia Che hanno Forse raggiunto Il culmine Quando Il nostro Vincitore Il salto in alto Ha Abbracciato L'altrettanto Exequo Vincitore La medaglia d'oro Catarino E insieme Hanno deciso Di accogliere La medaglia d'oro Senza andare Ad uno spareggio Credo che lo sport In questo momento Non vada sottovalutato Come strumento Di Integrazione Di Ovviamente Rafforzamento Dei diritti Ma anche Di grande Collegamento Diplomatico Tra le nazioni Tra gli stati E quindi Un grande lavoro Che possiamo fare Con la comunità Dei giovani A livello europeo Ma anche A livello Di Nazioni Unite È quello Di utilizzare Sempre più Lo sport Come uno strumento Di inclusione E che possa Abbattere Confini E muri In questo momento Storico Sono tanto contento Che per esempio Dei calciatrici Di erat Siano state accolte Siano state accolte Immediatamente Da squadre Di calcio Italiane E le federazioni Sportive Stanno accogliendo Molti degli sportivi Che abbiamo evacuato All'Afghanistan Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo però Se vorranno È fare in modo Di farli tornare lì Ad esercitare pienamente La loro vita Di cittadini afghani Con tutti i diritti Su questo c'è molto da fare E sicuramente Io ho detto 15-20 giorni fa Giudicheremo i talebani Dai fatti Non dalle parole I primi fatti Non sono per nulla Incoraggianti Sia dal punto di vista La tutela dei diritti Sia dal punto di vista Rappresentativo Di vertici Delle istituzioni Di questo nuovo governo Che sono nella lista Del Dei terroristi Dell'ONU Non solo Di un singolo paese Dell'ONU Quindi riconosciuti Da tutta la comunità internazionale Possiamo fare tanto insieme Io spero che questa sia un'occasione Anche come avete visto Tra il Consiglio Nazionale dei Giovani E la Farnesina C'è una storica collaborazione Non potrebbe essere altrimenti Perché I giovani sono anche il motore Delle nostre relazioni diplomatiche All'estero I fora dei giovani Comunicano continuamente Noi cercheremo di farlo Sempre di più In stretto coordinamento Col Ministero Della Ministra Dadone Che devo dire Non manca mai Di sollecitare Il protagonismo Del Ministero Ai fora Italiani E internazionali Soprattutto quelli multilaterali In cui l'Italia è coinvolta In cui si parla dei giovani E spesso si dimentica Che poi Le politiche giovanili Oggi Hanno assunto Il rango Da diversi anni Di Ministero Proprio perché Nel secondo paese Più anziano del mondo Dopo il Giappone Noi siamo il secondo paese Più anziano del mondo Le politiche giovanili Significano Spazio vitale Per l'Italia E probabilmente Non stiamo dando ancora Alla Ministra Dadone Le sue politiche Tutta l'attenzione Che merita Quindi cercheremo Come Farnesina Di mettercela tutta Grazie Grazie Sì chiaramente Io richiedo Mi faccio portavoce Dei giovani Per riuscire ad ottenere Tutto lo spazio Di cui hanno bisogno Mi sento solo Di aggiungere brevemente Poi lasciamo Il Ministro Di Maio E i suoi impegni Che sono sicuramente Moltissimi Di dire che Come Ministero Insieme al Consiglio Nazionale dei giovani Ma anche All'Agenzia Nazionale Abbiamo attivato Un confronto Anche un dibattito Insieme Ai ragazzi In particolare Penso Al Consiglio Nazionale Che il 19 Se non erro Terrà Proprio Una discussione Su questo All'interno Della propria Assemblea È stato da me Sollecitato Per riuscire Anche a sensibilizzare Forse chi sta fuori Da questi palazzi O da questi consessi Magari Non ha Attenzionato In una Sotto tutti i punti di vista La questione Di poterne discutere Oltre chiaramente Ad offrire Spunti propositivi Che possono essere Sempre utili Per avere nuove energie Anche in termini Di progettazioni E di progettualità Ad avanzare Da parte nostra Anche al Ministero Degli Affari Esteri Grazie Grazie Credo che ormai Il tempo Stringa E volevo ringraziare Tutte le autorità A cominciare Dalla Ministro Di Maio Per essere intervenuti Oggi E ringrazio Ringrazio naturalmente Chi si è collegato I tantissimi giovani Che si sono Collegati con noi Attraverso i canali digitali E consentitemi anche Di ringraziare Il nostro staff Ministro Perché ha lavorato Benissimo Il consigliere Volski Per le relazioni internazionali E tutto lo staff Del Ministro Marco Sanzi Andrea Raspina Insomma Tutti coloro Che hanno reso possibile Questo evento In così tanto In così poco tempo Un saluto E un ringraziamento Anche a Norbert Schebel Il team leader Della Commissione Europea Che saluto E naturalmente Un ringraziamento Al consigliere Martina Alla FAO Per aver Lavorato con noi In maniera così E proficua Ed intensa Grazie a tutti Arrivederci a questo punto Al forum Dal primo Al cinque di ottobre Grazie Grazie a te Grazie Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te